Buonasera a tutti, chiedo ai consiglieri presenti di prendere posto, nel frattempo aspettiamo che si aggiunga ancora qualcuno. Io ho per adesso la giustificazione, diciamo così, da parte di Marco Elena che è fuori bra per un funerale, ma ci raggiungerà, non appena potrà. Dei altri non ho notizie. Allora, se prendono posto, altrimenti possiamo... Sono mica in cortile? Non ci sono? Possiamo procedere con l'esecuzione dell'inno nazionale. Grazie a tutti. 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 Prima per ora è giustificato ma arriverà. Attualmente sono assenti Marengo, Somalia e poi l'ho già detto prima. Gli assessori sono tutti presenti. Allora nomino scurtatore il consigliere Gaia, Ambrogio e Tripodi. Grazie. Parola al sindaco per alcune comunicazioni. Una comunicazione molto breve, anche perché c'è stato un consiglio comunale da poco e quindi con numerose comunicazioni. Direi che in questo periodo è venuta a mancare una figura che rappresenta un braideese che ha rappresentato Bra in una forma artistica particolare. Ed è Severino Peroli che voglio ricordare perché attraverso il suo lavoro, attraverso la sua attività ha portato avanti, tanto cambiato nel periodo in cui la fotografia aveva certe caratteristiche, ha cambiato approccio al mondo fotografico e artistico. E lo ricordo come un grande, un bel personaggio della nostra città. Grazie al sindaco, ecco devo adesso scusare l'assenza del consigliere all'Asia che mi ha mandato il messaggio, mi ha detto che per motivi di salute non può essere presente questa sera e si scusa appunto per questa assenza. Siamo all'ultimo consiglio comunale di questa consigliatura e mi preme, mi fa anche piacere, dare alcuni numeri del nostro lavoro di questi cinque anni. Abbiamo svolto 44 consigli comunali, compreso anche quello di questa sera, per un totale di 393 delibere. Le statistiche allora dicono che siamo una media di quasi 9 consigli comunali all'anno e 78 delibere all'anno passate in questa sala all'esame di noi consiglieri. Sono state svolte ad oggi 95 conferenze di capigruppo per una media di circa 20 all'anno. L'anno in cui ce ne sono svolti di più è stato il 2015 con ben 26, il 2016 con 22, l'anno passato con 18. Ecco, questi numeri certamente sono dati, dati anche molto aridi, se vogliamo, ma parlano in generale di un consiglio che in questi cinque anni ha lavorato molto. Ha lavorato molto, ha lavorato anche, mi permetto di dire, con serenità. E questo imponente mole di lavoro è stato possibile innanzitutto grazie alla collaborazione di tutti gli uffici, di tutto il personale, di tutte le ripartizioni e del personale che è ancora oggi in servizio, ma anche di alcuni dei nostri dipendenti che oggi sono pensionati. E così ringrazio davvero il segretario generale, il dottor Chianese, così come il precedente segretario che ci ha accompagnato all'avvio della consigliatura, il dottor Proietti. Ringrazio il vice segretario generale di cui si sente voce nella scala. Ringrazio i dirigenti attuali e, così, quelli precedenti che hanno lavorato con noi per un certo periodo e poi non sono più dipendenti di questo comune. Ringrazio il personale di segreteria con cui quasi quotidianamente ero in contatto. Non è qui presente, ma arriverà dopo, penso, la signora Serena Milanesio, che ringrazio davvero per la precisione e la cura anche nei dettagli del suo lavoro, per la disponibilità. Ringrazio la segreteria e la segretaria in particolare della conferenza dei capigruppo e chi in passato anche ha svolto tale ruolo, prima di Elena Martini. Ringrazio l'ufficio stampa, molto puntuale, sempre molto presente, molto sollecito. Cinque anni fa, l'11 giugno del 2014, io assunsi questa carica grazie al voto, all'unanimità di voi consiglieri. E adesso anche lo posso dire con un po' di simpatia, se volete. L'unico voto di astensione su cui qualcuno aveva fatto, non in questa sala, ma fuori di questa sala, aveva fatto un po' di ironia dicendo che in ogni caso c'era rimasto una stenuta e se lo posso dire quello ero stato io, perché ovviamente non è bello votare per se stesse, come è facilmente intuibile. No, ho ricordato questo passaggio, l'unanimità, perché da quel voto, che io ho interpretato come un impegno anche da parte di chi mi ha votato, e mi ha scelto per questa carica, io, forte di quell'impegno che mi sono preso, ho sempre cercato in questi cinque anni di mettere al primo posto il rispetto, il decoro e le autonomie delle prerogative del Consiglio Comunale, come organo istituzionale della città. Questo è un valore in cui ho sempre creduto e che spero di avere sempre rispettato, cercando di garantire, pur essendo io come noto espressione di una parte dell'Assemblea, eppure appartenendo ad un gruppo in particolare del Consiglio, cercando però, dicevo, di garantire sempre trasparenza e pari opportunità per tutti i colleghi. E ringrazio allora i capi gruppo, tutti i colleghi consiglieri, per la collaborazione, sempre preziosa, per il clima sempre costruttivo, sempre corretto, di fiducia, di stima reciproca. Così è stato tra il Presidente e i gruppi, così è stato tra i gruppi e la Giunta, tra il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. Sono stati per tutti cinque anni di lavoro, molto intenso, ma almeno per quanto mi riguarda, di grande esperienza istituzionale e umana. Sappiamo che alcuni di noi non si presenteranno più alle prossime elezioni, sappiamo che altri lo faranno, sia per questa Assemblea, sia per altri enti sovraordinati, in particolare la Regione. A questi ultimi, davvero un augurio molto sentito e cordiale per una realizzazione dei loro disegni politici e amministrativi. A quelli che invece hanno collaborato con noi e hanno ritenuto, per vari motivi, di non presentarsi più all'elezione, un grazie per questi cinque anni di impegno e di attenzione per la città di Brano. Un grazie va anche a quei dipendenti, ex dipendenti, ex amministratori comunali che nel corso di questi cinque anni hanno lasciato questo nostro mondo e ai quali sempre abbiamo fatto, non abbiamo mai fatto mancare la nostra presenza nelle circostanze del lutto, così come anche a tanti di noi che in famiglia hanno perso molte persone care, così come anche a tanti dipendenti del nostro comune che hanno perso molte persone care in questi anni. E permettetemi ancora in particolare un saluto al Sindaco. Il Sindaco chiude, almeno se non ci sono altri episodi o se non ci saranno altre occasioni prima della fine del mandato, chiude questa sera con l'ultimo Consiglio Comunale dieci anni di suo mandato. A lei in particolare un saluto, un ringraziamento e un augurio particolare e sono certo di interpretare qui i sentimenti di tutta l'Assemblea, la quale pur nella diversità dei ruoli e delle collocazioni politiche il Signor Sindaco le ha sempre riconosciuto passione, impegno, dedizione per la sua e nostra amata città di Brai. Davvero, ancora, da parte mia, grazie, grazie per questi cinque anni di fiducia, di collaborazione, grazie per aver contribuito in questa consigliatura a mantenere un rapporto e un equilibrio tra i gruppi e tra le istituzioni di questo comune veramente degno di una grande e importante città come è la nostra città di Brai. Speriamo, in qualche modo, pur nella diversità degli impegni e delle proposte politiche ci qualcuno diversamente da altri farà proprie presentandosi alle elezioni, non presentandosi più a Brai o comunque cercando comunque sempre di lavorare per il bene della nostra comunità. Ecco, speriamo che questa collaborazione possa continuare ancora anche al di fuori di quest'aula che ci ha visti comunque sui valori grandi che fanno tale una comunità ci ha visto sempre molto allineati per il prestigio delle istituzioni e soprattutto per l'interesse dei nostri concittadini. Quindi, grazie a tutti. consigliera Milazzo, prego. Grazie Presidente, faccio mie innanzitutto le sue parole mie personali, ma penso anche di tutti i presenti, per cui non mi dilungo sui ringraziamenti e sulle esperienze che abbiamo avuto. vorrei però portare così la mia, far notare che cos'è stata la mia esperienza in questo Consiglio Comunale al servizio della città. Dovevo cercare di trovare dei termini per definire, ho trovato dei termini molto semplici, forse apparentemente banali, comunque voglio comunicarli ai miei colleghi e ai presenti. È stata un'esperienza bella, forte e toccante. Allora, bella perché? Perché nonostante abbia un mal di schiena sono qui delle ore seduta. No, bella perché comunque mi ha fatto scoprire dei compagni di viaggio. Spesso noi sottovalutiamo le persone che ci accompagnano nel bene e nel male comunque, ma che rafforzano le nostre esperienze e che rafforzano anche l'identità personale. Quindi bella in questo senso qui, perché comunque c'è stato un impegno disinteressato al servizio della nostra comunità. forte perché? Perché rende forti il lavoro comune. Il lavoro comune permette di raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge. Da soli è molto più difficile. C'è qualcuno che diceva che un sogno resta un sogno se non si sogna insieme agli altri. E quindi invece io ho sperimentato il fatto che il sogno con i limiti ovviamente che ci sono nell'amministrare la nostra città può essere realizzato nell'unione con gli altri nell'unità nel fare appunto porsi degli obiettivi comuni da raggiungere. Ed ho scoperto anche se in parte diciamo era già mio questo aspetto qui la sussidiarietà. Era già mio perché lavorando nel volontariato ormai da sempre ho scoperto che anche da posizio amministrativo la sussidiarietà è importante. Un aspetto importante sia quando si lavora con enti ma anche quando si lavora con i privati perché nel sostenere i progetti comuni in favore di tutti i cittadini in modo particolare io penso negli ultimi ecco si ottengono dei risultati ancora molto deve essere raggiunto però già solo il mettersi in cammino è un grande passo. Desidero anche ricordare visto che arriviamo dalla designazione della sala di Palazzo Matis alla la titolazione della sala nobile di Palazzo Matis a notaio ex sindaco di Bra negli anni 60 e 70 che io non ho conosciuto personalmente perché ero ancora troppo giovane per affacciarmi alla vita politica ma subito dopo ho imparato anche ad apprezzare chi erano stati i sindaci che erano stati precedentemente a capo della nostra città che avevano guidato più che a capo chiedo scusa per i termini ma forse non sono così appropriati i miei termini comunque andiamo alla sostanza ho imparato anche ad accettare così a capire e a conoscere i meriti di persone che mi hanno proceduta ecco non nello stesso ruolo ovviamente e allora vorrei così fare un piccolo invito a tutti i presenti dopo domani sarà il 25 aprile mi è venuto in mente ascoltando appunto anche quanto il presidente del consiglio ha espresso a nome di tutti sulla figura del notaio sì Carlo De Giovannini il notaio De Giovannini sindaco di Bra tra gli anni 60 e gli anni 70 una persona che è sempre stata presente il 25 aprile in memoria proprio di quello che è stato questa giornata noi siamo qui oggi a parlare liberamente perché qualcuno si è sacrificato per noi perché qualcuno ha preso delle responsabilità e allora insieme a lui proprio perché prima conoscevo poco questa figura ma ho avuto modo invece di conoscere altre figure vuoi ricordare anche il geometra Gaia che ho conosciuto personalmente anche come dipendente dell'ASL il maestro Fissore anche lui conosciuto personalmente e il sindaco da Gramaglia a cui titoleremo la sala della resistenza il 25 aprile proprio sono tre figure che avendo conosciuto personalmente desideravo così ricordare ma più che ricordare perché ricordi quando si muore servono a niente se le diciamo solo sulla carta ricorderemo finché vive lo diciamo tutti quando andiamo magari ai funerali di qualcuno invece ricordo diventa vita quando noi facciamo della loro vita la nostra esperienza e la nostra esperienza anche la partecipazione al 25 aprile per questo io decidero porre l'invito a tutti i consiglieri comunali ovviamente compatibilmente che gli impegni uno può aver assunto anche precedentemente ecco perché è chiaro che in questo caso non può partecipare ma in memoria di questi nostri concittadini che hanno avuto un ruolo nella vita della nostra città e un ruolo anche precedente alla vita della nostra città repubblicana perché prima loro si sono sacrificati per noi perché noi potessimo esprimerci quindi in modo particolare ecco rivolgo questo invito a tutti i presenti alle manifestazioni del 25 aprile ci sarà almeno un momento a cui potremo partecipare se non potremo partecipare a quello ufficiale sarà anche l'essere presente alla visione del film ci sono moltissimi modi per ricordarlo oppure essere presenti qui durante la titolazione al maestro Cesare Gramaglia della sala e poi infine brevemente chiedo scusa mi ero segnata tre punti a casa ma probabilmente non sono così sintetiche abbiate pazienza infine vi si dovrò ricordare anche anche se con noi apparentemente non c'entra nulla la strage di Colombo nello Strilanga cioè tutti i defunti che ci sono stati morti e comunque i feriti la ferita più grande è quello di ciò che si è creato lì cioè la presenza dell'odio e l'odio che chiama altro odio allora che cosa c'entra questo la riflessione che vorrei fare è c'entra perché noi con il ruolo pubblico che abbiamo dobbiamo dare molta importanza a ciò che diciamo e a quello che comunichiamo dobbiamo essere dei portatori ma non perché io sia cristiana voglio essere portatore di amore anche dove c'è l'odio ma come proprio amministratori avere la consapevolezza che spesso dobbiamo misurare anche i termini dobbiamo che utilizziamo misurare le parole per essere portatori appunto di pace e non portatori di odio perché proprio oggi a telegiornale hanno detto che questi qui che potremmo considerare matti potremmo considerarli stragisti tutto quello che si vuole come aggettivo condivido in pieno però sono il frutto di che cosa dell'altra strage avvenuta in Nuova Zelanda hanno comunicato loro allora noi dobbiamo essere amministratori che con il nostro esempio con la nostra parola dobbiamo bloccare questa crescita dell'odio grazie grazie ecco prima nei ringraziamenti ovviamente il saluto ai consiglieri da parte mia era sottointeso anche esteso agli assessori ci mancherebbe così come voglio anche ringraziare la presenza discreta e silenziosa ma molto efficace per tutti questi lunghi cinque anni degli operatori della società Maria TV che fanno le riprese via web che sono a volte costretti a delle a delle faticacce di ore e ore uno seduto e l'altro appollaiato sulla finestra alle mie spalle quindi anche loro collaborano per una parte importante della nostra comunità che è quella della divulgazione del consiglio comunale che ovviamente è pubblico così come anche alcuni del pubblico che ci seguono praticamente tutti i consigli comunali e adesso eccolo là non faccio nomi ma sapete tutti benissimo a chi mi riferisco grande senso civico o chi lo sa grande volontà di farsi del male no no grande senso civico grande senso civico voglio pensare a questo grazie grazie consigliere Milazzo consigliere Marengo prego sarò brevissimo presidente visto che è l'ultima occasione in cui ci ritroviamo ufficialmente come consiglio comunale desideravo semplicemente fare un ringraziamento lei ha fatto molti ringraziamenti con le sue parole ma io vorrei ringraziare voi voi tutti che in questi cinque anni avete condiviso con me ma lo abbiamo condiviso tra di noi un pezzo di strada insieme ci siamo scontrati duramente perché le nostre idee politiche spesso non combaciano non diverbono e meno male che è così perché questo è il sale della democrazia però io credo di poter dire che sempre ho visto in quest'aula un atteggiamento costruttivo da parte dei colleghi consiglieri di maggioranza o di opposizione fra poche settimane ci sarà un consiglio nuovo qualcuno di noi probabilmente sarà rieletto qualcuno non sarà rieletto qualcuno ha preso una decisione diversa quella magari di non ricandidarsi perché la vita non è solo politica per fortuna ma abbiamo i nostri impegni inaugurativi di famiglia eccetera brevemente ecco sentendo prima la consigliera Milazio che mi ha preceduto mi ha fatto venire in mente una cosa io sono abbastanza abituato a parlare in pubblico non sono un timido però in questi cinque anni credetemi a volte quando ho preso la parola ho avvertito in me l'emozione l'emozione non tanto di parlare in un consenso pubblico ma di essere in un'aula che ha visto nei decenni scorsi figura emblematica della nostra città sedere su questi banchi magari non fisicamente in quest'aula in altre soluzioni come anche non molto tempo fa c'era la biblioteca insomma il consiglio comunale si è ritrovato in altri luoghi però ecco ho avvertito su di me sempre la responsabilità dei nostri atti dei nostri gesti delle nostre parole portando avanti per quanto mi riguarda sempre un unico imperativo categorico direbbe Kant e cioè il bene della nostra città abbiamo come minoranza a volte condiviso con la maggioranza alcune deliberazioni spesso e volentieri questo non è successo abbiamo dibattuto a lungo ma perché non credevamo e non crediamo che molte delle decisioni presi da questa amministrazione siano fatte secondo noi a maggiore beneficio della città ovviamente fra poche settimane voteremo le elezioni ci diranno cosa pensano i braidesi se la minoranza verrà premiata piuttosto che ci sarà una riconferma di questa amministrazione anche se poi non diciamo nei suoi componenti principali però ecco il mio pensiero va a voi le vostre famiglie vorrei dirvi davvero un grazie perché come ricordava anche il presidente abbiamo avuto delle sessioni fiume in questa in quest'aula e abbiamo così facendo sottratto tempo ai nostri cari alle nostre famiglie ai nostri affetti semplicemente alla lettura di un buon libro di un buon film della compagnia degli amici o semplicemente di un relax tranquillo a casa dopo una giornata magari di duro lavoro chi si è impegnato in questi anni lo ha fatto perché crede che la res pubblica che la cosa pubblica sia fondamentale e che qualcuno se ne debba se ne debba occupare non possiamo dire di averlo fatto per denaro perché avremmo credo decisamente investito meglio il nostro il nostro tempo nei nostri rispettivi lavori lo abbiamo fatto credo tutti spinti da la consapevolezza che il bene si costruisce facendo del bene per la nostra città per i nostri concittadini a volte magari avendo e subendo delle critiche magari anche un po' insensate a volte da chi tendenzialmente critica aprioristicamente senza conoscere però quanto è duro e quanto è difficile il lavoro del consigliere piuttosto che eventualmente dell'assessore del sindaco eccetera è ovvio non posso che augurarmi da uomo di centrodestra che fra un mese o poco più su quei banchi ci sia un'altra maggioranza ma questo credo che me lo perdonerete ma fa parte del gioco però ecco il bello che ho visto in questi anni sarà un ricordo che indipendentemente da come andranno le elezioni e indipendentemente da come andranno le mie elezioni io mi ricandiderò ma non so ovviamente se sarò riretto probabilmente se i bridesi vorranno siederemo di nuovo alcuni di noi in questi banchi altri no però il ricordo che ho di questi cinque anni è un ricordo assolutamente positivo un ricordo di dedizione ecco io poi essendo l'unico membro della mia lista ho partecipato dalla conferenza di capigruppo a tutte le commissioni quindi ho visto da vicino quello che è il funzionamento della macchina comunale e tendenzialmente rispetto a quanto si crede ho visto in questi anni anche tanta dedizione tanto impegno e tanta motivazione da parte dei dipendenti del nostro comune devo dire che nessuno ha mai fatto mancare il proprio impegno alle domande è sempre stata data una risposta in tempi celeri questo non può che andare a favore delle persone che lavorano in questo comune indipendentemente poi dalle amministrazioni che si le amministrazioni vanno e vengono le persone che veramente quotidianamente possono portare avanti il lavoro sono molti dei funzionari dei dirigenti e degli impiegati di questo comune a loro va il mio grazie a voi tutti va il mio grazie un bocca al lupo un bocca al lupo grande per chi si ricandiderà sperando di poter essere riconfermato un grazie a chi non lo farà e quindi finisce qui il suo percorso però l'esperienza è stata assolutamente positiva e sarà un ricordo che porterò sempre con me grazie grazie consigliere Marengo aveva chiesto la parola il consigliere Somaglia prego grazie Presidente io sarò veramente breve perché devo dire che trascorsi velocemente questi cinque anni i 44 consigli io penso di essere intervenuto in tutti i 44 più volte e quasi mai con emozione ma questa sera l'emozione mi sta prendendo anche perché dopo 25 anni con qualche parentesi in altre in altre assemblee ho sempre partecipato alla vita cittadina e questa potrebbe essere per me l'ultima riunione di consiglio comunale e quindi i ringraziamenti che sono stati fatti dal Presidente a tutti i dirigenti non li cito uno per uno perché rischierei di dimenticarne qualcuno a tutti i dipendenti del Comune che sempre sono stati molto attenti alle nostre esigenze le nostre istanze nei cinque anni ci sono state parecchie discussioni in consiglio e sempre discussioni che mettevano davanti a tutto il bene della nostra città e sempre con rispetto delle posizioni che ognuno di volta in volta assumeva certo ognuno con le proprie caratteristiche ognuno con i propri pensieri e le proprie idee e chiudo rinnovando i ringraziamenti e poco fa quando sentivo le parole del Presidente e dei consiglieri che mi hanno preceduto io a livello amministrativo ho ricoperto tutti i ruoli tranne uno che ho cercato di ricoprire cinque anni fa non ci proverò più nell'arco della mia vita ma rimane comunque no penso proprio di nuovo Presidente ma per scelta mia e anche per scelta dei miei concittadini perché ma principalmente per scelta mia e metterò comunque a disposizione la mia persona nelle prossime consultazioni elettorali ma rimane veramente la soddisfazione di aver contribuito negli anni al rinnovamento della nostra città e di essermi per quel poco che mi competeva impegnato per la nostra città grazie quindi a tutti e soprattutto a chi negli anni mi ha sostenuto e a chi ci ha dato una mano soprattutto negli ultimi cinque anni nell'essere aggiornati sui lavori del Consiglio Comunale nelle varie commissioni i nostri tecnici che ci hanno aiutato penso sempre con dei contributi tranne a parte qualcuno con i contributi che hanno apportato grazie grazie a lei consigliere Somaglia chi lo sa la vita riserva sorprese quindi non si può dire mai ma chi lo sa chi lo sa non poniamo limiti consigliere Tripodi prego grazie presidente ho ascoltato molto volentieri le sue parole e mi unisco ai ringraziamenti che a tutti coloro i quali in questi cinque anni hanno fatto sì che il Consiglio Comunale funzionasse funzionasse bene un ringraziamento a lei in particolare presidente dove posso essere contento di averlo votato come presidente del Consiglio e ribadisco ribadisco fortemente la ringrazio per la sua trasparenza per il suo essere veramente super partes grazie per aver rappresentato questo Consiglio nel miglior dei modi sia all'interno di quest'Aula permettendo tutti coloro che volessero esprimere le loro opinioni di farlo un atteggiamento costruttivo un po' adesso oltre a lei lo 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 amplio a tutto il Consiglio tutti i consiglieri un atteggiamento costruttivo spesso e volentieri magari io tra i tanti consiglieri sono quello un pochettino più caldo mi scaldo più facilmente rispetto di altri rispetto ad altri ma è così entrai in Consiglio Comunale quando il Sindaco Sibile divenne Sindaco nel 2009 ho vissuto tutti i dieci anni delle amministrazioni civile devo dire che questo mio la mia attività amministrativa ma l'attività di tutto quanto un gruppo che anche col collega Panero abbiamo rappresentato in questi anni è stata veramente un'attività veramente costruttiva positiva importante e tutto ciò onore e onere di chi appunto sta seduto tra questi banchi sono emozionato anche io perché personalmente a livello amministrativo ci ho sempre messo e ci metto tuttora la passione la voglia quando entrai avevo 22 anni la voglia di voler contribuire partecipare dare un contributo sempre con quell'idea veramente quella frase che mi rimase sempre nella testa che se non ci occupiamo di politica prima o poi la politica si occuperà di noi è una frase che mi rimane tutt'oggi nella mia mente e come spesso e come tanti questo consiglio si ricandideranno anche alle prossime amministrative in altri ruoli anche sovracomunali a tutti quanti anche io do un forte in bocca al lupo fondamentalmente perché nel momento in cui in una persona o con cittadini diversi anche fuori da questi banchi decidono di mettersi in gioco mettere la faccia e dare delle energie in quello che potrebbe essere un contributo per lo sviluppo il miglioramento il rinnovamento della propria città è una cosa positiva la partecipazione è una cosa meravigliosa spero veramente che tutto ciò non si fermi come spesso e volentieri accade nel momento del momento elettorale spero veramente che molti giovani possano avere l'opportunità come ho avuto io ma come abbiamo avuto tutti noi di poter dare il proprio contributo quindi è molto chiaro è sempre stato così come nel 2009 entrai in consiglio prima minoranza entrai minoranza esco adesso e speriamo 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 sicuramente che nelle prossime nella prossima tornata che verrà appunto tra un mese questo possa cambiare magari per qualcuno lo so può sembrare antipatico la mia speranza appunto che tra quei banchi della giunta e magari a sindaco ci sia qualcun altro ma veramente in questo momento qui un po' l'emozione un po' per il fatto che veramente in questi dieci anni ho fatto qualcosa che ho creduto ho fatto e abbiamo cercato veramente di essere la voce di una parte della città una parte della città che ci ha dato il sostegno ma nel momento in cui pur sostenuti da una parte della città abbiamo cercato di esprimere le nostre le nostre le nostre le nostre esigenze e porre i nostri contributi a questo consiglio parlando a nome di tutta la città quindi io ringrazio tutti voi ringrazio i dipendenti comunali i funzionari i dirigenti e anche lei sindaco per ultimo ma non perché meno importante assolutamente sempre dalla parte opposta sempre continueremo così e vedremo che vinca il migliore grazie grazie vedo da parte di quasi tutti che sarà la emozione o sarà che però il brutto difetto di superare i 5 minuti questo è sempre presente al di là dello stato d'anno stasera non ci sono emozioni ma ci sono molte emozioni quindi anche per togliere un po' questo clima dell'ultimo giorno di scuola permettetemi ancora di continuare a fare qualche battuta chi lo sa poi appunto nessuno saprà sulla sede del sindaco sicuramente ci sarà un altro questo è fuori discussione però sulle altre sedi è chi lo sa comunque questo è il bello della libertà consigliere Maju prego grazie presidente mi scuso innanzitutto per il ritardo di non aver assistito all'inaugurazione della nomina della sala la palazzo matis di Carlo De Giovanni Giannini Giannini e sì anch'io vorrei insomma unirmi ai ringraziamenti ma prima di farlo sicuramente è stato fatto nella parte iniziale insomma portare il cordoglio a quello che è successo in Sri Lanka portare il cordoglio a quello che è successo in Nuova Zelanda portare insomma anche un messaggio che vuole essere un messaggio di serietà di sobrietà a tutti i crimini quelli che stanno succedendo intorno a noi affinché non vengano strumentalizzati oggi è nato il caso a Roma rischia di essere di nuovo strumentalizzato e messo in una situazione dove si creano conflitti fra parti che in realtà non hanno nulla di conflittuale vorrevo ringraziare assolutamente anch'io prima di tutto i dipendenti per tutto il lavoro che hanno fatto in questi anni la loro completa disponibilità su tutte le richieste che i consiglieri comunali hanno fatto loro in questi cinque anni io quando sono entrato qui naturalmente il messaggio era molto forte moltissime famiglie soprattutto famiglie di genitori di bambini ragazzi di seconda generazione mi hanno messo quasi un peso sopra un peso importante perché ovviamente era una novità ma soprattutto era una novità che un ragazzo figlio di immigrati che vive nelle case popolari potesse trovare spazio e questo è stato un messaggio molto forte per quei genitori che pensavano che la politica la fanno tanto solo i soliti noti la fanno solo chi ha i soldi invece no la politica la fanno anche le persone che hanno voglia di partecipare persone attive nel volontariato persone attive nella società civile e questo ha dato molta speranza ha dato speranza che siamo una piccola comunità ma che è unita è unita soprattutto quando mi candidai cinque anni fa mi dissero ah almeno qualcuno che vada a affrontare le persone razziste all'interno del consiglio comunale io invece non ho visto nessun razzismo assolutamente ho visto persone veramente molto molto serie persone molto mature persone con le quali si è creato un rapporto di amicizia un rapporto di stima un rapporto di anche di fiducia anche di consulenze ogni tanto ho visto persone che amano la comunità nella quale vivono nella stessa maniera che l'amo io abbiamo visioni diverse su cose nazionali internazionali ma sul luogo bene o male le visioni sono molto molto simili e vorrei fare anche un ringraziamento diverso vorrei ringraziare Grazia Novellini Grazia Novellini quando sono arrivati i primi consigli comunali pensavo fosse un'istituzione una delle responsabili del consiglio quindi da piccolo quando venivo è stata una persona che ha seguito il consiglio comunale fino a tarda sera fino a tarda notte quando si prolungavano e invece ho scoperto che non lavora per il comune e quindi questa cosa qua mi ha fatto ammirarla da un punto di vista ringrazio assolutamente tutti i consiglieri con i quali mi sono confrontato in questi anni di opposizione Davide ex compagni di scuola Panero Marengo Somalia Elena poi in realtà sono oppositori di tutti e anche quelli di maggioranza è stato assolutamente cinque anni di crescita per me vorrei ringraziare sicuramente anche Massimo Claudio all'Asia che penso mi abbia insegnato veramente tantissimo mi ha insegnato tantissimo soprattutto su quei temi dove toccano i principi poi su alcune cose non si condividevano ma sui principi è stato per me un grande una grande persona che mi ha insegnato molto e mi dispiacerà molto che il prossimo consiglio comunale è una figura come lui non sarà presente nel consiglio e niente vi vorrei ringraziare assolutamente viaggio assolutamente per il lavoro fatto in questi anni e il sindaco per la completa disponibilità nel ricevere non solo attraverso insomma meccanismi molto burocratici molto rigidi ma di aver avuto la porta aperta non solo insomma per i consiglieri maggioranza di opposizione ma anche per i cittadini in generale quindi questi cinque anni insomma non è un addio ma l'attivismo in città sarà per tutti quindi ci vedremo nelle vie grazie grazie a lei consigliere Amajou sì consigliere Elena prego sì grazie presidente ma anch'io voglio intervenire in questo ultimo consiglio di questa legislatura ho sentito molto e ho apprezzato molto le parole dei colleghi con cui abbiamo condiviso appunto questi cinque anni di consigliatura mi scuso anch'io che non ho potuto partecipare perché ho dovuto andare a un funerale l'ho comunicato al presidente all'inaugurazione della sala presso Palazzo Matis veramente anch'io appunto dopo una lunga ormai sono 25 anni come collega Somalia e come molti di voi voglio innanzitutto per prima cosa ringraziare tutti i dipendenti del Comune i funzionari perché per la loro disponibilità ma non mai stata in discussione in tutti questi anni in cui sono stato in Comune c'è sempre stata molta una collaborazione sempre totale su qualsiasi cosa e su questo è una cosa io do talmente per scontato però voglio rimarcarla voglio ringraziare mi spiace che ho sentito l'ultima parte del suo discorso però sicuramente condivido a pieno tutto quello che ha detto ringrazio in modo particolare il sindaco perché abbiamo collaborato moltissimo in questi dieci anni ma già anche prima in un'altra fase della vita politica però mi sembra che abbiamo collaborato sempre in modo propositivo come ha detto bene il consigliere Somalia chiaramente facendo parte dell'opposizione ci sono contrasti su certe cose però mi sembra che sulle cose positive abbiamo sempre cercato di fare una posizione costruttiva condivido molto anche il pensiero fatto dalla collega consigliera Milazio sul 25 aprile me lo ricordo molto bene anche perché San Marco però voglio anche ricordare che ci sono sempre molte altre altre occasioni perché la nostra comunità l'Italia quindi anche Bra può vantare la democrazia a cui abbiamo ottenuto chiaramente il 25 aprile è il culmine per aver ottenuto la libertà e la democrazia in cui possiamo ognuno dalle proprie posizioni dire la nostra proprio anche con contrasti con proprio i personaggi anche che ha citato la consigliera il geometra Gaia il mestre Gramaglia e lo stesso Notello di Giovannini io non ricordo qualcuno in particolare però ricordo che anche proprio lì parliamo degli anni 60, 70, 80 anche l'opposizione era anche molto dura molto erano anche periodi in cui si assisteva veramente a contrasti durissimi sempre nella logica della democrazia però questo appunto è proprio quello che ha portato a essere una nazione in cui ognuno può esprimere le proprie opinioni con tutta la libertà e con tutti i pareri e con tutte le idee che uno può portare avanti anche io faccio gli auguri a tutti a chi si candida chi non si ricandida per il lavoro che è stato svolto in questi cinque anni di consigliatura penso che a livello umano non ci sia nessun tipo di contrasto ci si può vedere ci si saluta anch'io con tutti gli altri colleghi penso che si può anche dire veramente che si è instaurato anche un rapporto di amicizia indipendentemente come uno poi la può vedere sui problemi amministrativi politici quindi ribadisco ancora il mio ringraziamento a tutti i colleghi a tutta la giunta come ho già detto prima sia a lei presidente che al sindaco grazie grazie a lei consigliere Elena se non ci sono più interventi da parte di consiglieri aveva chiesto la parola il vice sindaco Borrelli al quale passo appunto il microfono grazie grazie presidente ma credo sia doveroso anche a nome della giunta quindi a nome di Bailo Fogliato Messa Cravero intervenire per ringraziare ognuno di voi per il grande lavoro fatto per il fatto di averci stimolato in questi anni rispetto all'attività amministrativa di averlo fatto in maniera anche a volte con toni e modi anche duri come giusto che sia nei ruoli che ognuno di noi ricopre di averlo fatto con un sorriso a volte quando ce n'era la possibilità un ringraziamento lo faccio a nome della giunta dei colleghi di giunta a tutti i dipendenti che hanno lavorato in maniera importante in questi anni io quest'anno festeggio i vent'anni di consiglio comunale nei vari ruoli da consigliere di maggioranza minoranza e poi negli ultimi dieci anni come assessore comunale questi dieci anni a fianco di una persona incredibile di un sindaco che ha saputo che ha saputo dare un contributo importante a questa città la voglio ringraziare per il grande lavoro fatto perché soprattutto nel primo mandato molti di noi erano alla prima esperienza e quindi poter contare su un sindaco che mai ha fatto mancare il suo appoggio il suo sostegno i suoi consigli è stato per noi un motivo importante per andare avanti e per avere la possibilità di avere come si suol dire le spalle coperte rispetto alle cose che si facevano e quindi un grazie per quello che hai fatto sindaco hai fatto Bruna in questi anni so che anche se non sarai più in questo ruolo potrai continuare a portare un contributo importante alla città e quindi grazie per quello che hai fatto e per quello che farai anche in futuro grazie grazie al vice sindaco Assessore Borrelli ha chiesto la parola il sindaco prego io credo di essere veramente la decana della presenza in questo consiglio è il 38esimo anno di presenza sono entrata in consiglio comunale nel 1981 ho fatto una lunga esperienza all'opposizione qualcuno la ricordava nei dibattiti nei confronti negli scontri e poi un periodo amministrativo a cui è seguito un impegno che mi ha vista consigliere comunale ma anche un po' spesso impegnata a livello regionale ma è indubbio che gli anni più e anche l'aspirazione più amministrativa che avevo dentro di me e che ha fatto interrompere un anno prima della fine del mandato in regione e mi ha fatto scegliere di candidarmi a sindaco era perché questo era il l'obiettivo dal punto di vista della politica politico amministrativo che nutrivo dentro di me come aspirazione aspirazione che si è concretizzata nel 2009 e che è durata in questi dieci anni con una esperienza diversa sono stati cinque anni di un tipo e cinque anni di un altro anche se all'insegna di un grande rispetto reciproco io devo dire intanto che noi abbiamo la fortuna di avere un personale che a partire dai dirigenti fino ai livelli inferiori collabora con le amministrazioni che di volta in volta si sono succedute e credo che collabora per far raggiungere gli obiettivi di programma che ovviamente un'amministrazione si dà e che la democrazia quella che attraverso il momento che festeggiamo il 25 aprile questa democrazia rinconquistata permette l'alternanza e la possibilità rispetto ai cittadini di scegliere di volta in volta qual è il programma che meglio ritiene consono per la propria città quindi abbiamo questa grande fortuna una fortuna di avere un personale che negli ultimi mesi ha attraverso i propri rappresentanti sindacali fatto una proposta importante dal punto di vista dell'orario di lavoro proposta che abbiamo accettato e che e per il quale abbiamo anche ovviamente come avviene in tutte le proposte chiesto una contropartita da un lato ci sarà una modifica dell'orario a partire dal primo di maggio la cosa è maturata in modo unitario da parte del sindacato richiedendo un pomeriggio ulteriore chiusura del lavoro ma mantenendo lo stesso numero di ore di apertura al pubblico e per quanto riguarda la richiesta fatta dall'amministrazione garantendo il giovedì l'apertura anche nell'orario di pranzo degli uffici per i cittadini una sorta di giovedì del cittadino in cui uno non deve chiedere permesso sul lavoro è garantita questa possibilità ma la cosa che io ritengo importante è che questa proposta sia maturata dai lavoratori sia stata richiesta dai lavoratori e ovviamente nell'ambito di una trattativa perché loro avevano chiesto unicamente il mercoledì pomeriggio la disponibilità alla modifica di nell'ambito di una trattativa ha portato a condividere per i lavoratori che svolgono le funzioni negli uffici non certamente i vigili piuttosto che i servizi specifici questi continuano ad avere i loro orari normali un grazie quindi al grande lavoro che a cui li abbiamo sottoposti per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati un grazie a tutti a tutti gli assessori permettetemi di ricordarne prima di tutto uno che questa sera non è qui con noi e non è più qui con noi che si chiama Beppe Bonetto credo che la squadra che ha gestito i primi cinque anni la squadra che ha gestito questi altri cinque anni è diversa ma ha un'unico grande caratteristica positiva intanto quella di una grande lealtà rispetto alle indicazioni che il sindaco dava una grande disponibilità al lavoro una grande disponibilità di essere al servizio della nostra comunità permettetemi di ringraziare ciascuno di voi ciascun consigliere comunale il ruolo dei consiglieri comunali per me che ho veramente vissuto il cambiamento del è cambiato molto in questi anni un tempo c'erano dei consigli comunali non che adesso durino di meno avevano soltanto molti più punti all'ordine del giorno perché i consigli comunali trattavano le problematiche le più diverse una sostituzione di una maternità passava in consiglio comunale con la riforma e con l'elezione diretta del sindaco è cambiato il proprio è cambiata complessivamente la 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 tecnica amministrativa però io credo che se penso ai primi cinque anni al lavoro fatto rispetto al piano regolatore per dirne una se penso al lavoro fatto rispetto alla colonia marina vredese se penso ad alcuni lavori insomma ad alcune alcuni poi al grandissimo lavoro fatto dalle commissioni nei vari settori con il supporto dei dei tecnici credo che ci sia sta e poi molti consiglieri hanno avuto delle deleghe che hanno seguito con grande attenzione e quindi dando e portando risultati di grande importanza è inutile che vi dica che vi sto parlando con un po' di nodo in gola dieci anni sono dieci anni sono lunghi e al tempo stesso si chiudono in uno spazio breve sono dieci anni nei quali la nostra città tra l'altro dieci anni di una una attività politico amministrativa vissuta in un contesto di carattere economico generale veramente molto complesso e devo ringraziare il fatto che in questi anni nonostante i tagli nonostante i dati poi li vediamo attraverso il consultivo si sia mantenuto credo un impegno che presi il primo consiglio comunale con tutte le difficoltà del primo consiglio comunale dove ricordate eravamo dieci a dieci quindi era assolutamente fondamentale la collaborazione e devo dire un grande grazie alla vecchia maggioranza e alla nuova maggioranza e due maggioranze che si sono susseguite per il supporto dato devo dire un grande grazie a coloro che in questi anni anche nei momenti difficili anche nei momenti in cui non sempre la salute è stata mi sono stati vicini a volte senza parlare ma con anche soltanto con uno sguardo perché a volte parlano di più gli sguardi delle parole credo che questa città rispetto al 2009 sia cambiata saranno i cittadini a valutare e a darci un giudizio se sia cambiata noi riteniamo ovviamente il meglio e con tante opportunità in più credo che ci sia un elemento molto molto importante sia nella precedente consigliatura con la presidenza di Fabio Bailo sia nell'attuale con la presidenza di Biagio Conterno credo che il rapporto tra consiglio e giunta sia stato reso possibile importante e quando necessario con le dovute con i dovuti interventi e questo penso sia la sensazione più positiva che porto dentro di me dissi che mi auguravo una città che fosse più ricca di umanità in cui le persone più credessero nel orgoglio di essere ebraidesi ecco io credo che in questi anni tutti insieme lavorando all'ATL piuttosto che al lato piuttosto che al DPL o dove o in altri settori abbiamo credo ciascuno di noi fatto cercato di mettere Bra al centro dell'attenzione mettere la nostra città al centro dell'attenzione e questo credo che sia un risultato che non è di una persona è di tutto una gruppo che ci crede e questo è l'elemento più bello perché si può crescere e si deve crescere in ricchezza e sono contenta che oggi ci sia questa notizia che la nostra città è collocata per quanto riguarda le questioni dell'occupazione tra i primi proposti a livello della provinciale questo dato che emerge è un elemento positivo ma è altrettanto fondamentale per una comunità per una comunità coesa che avrà la sua campagna elettorale sui confronti mi auguro i suoi scontri ma il problema è che dal 27 di maggio la cosa importante è che chiunque si sieda qui e amministri questa città lo faccia con intento di rendere bra sempre più sempre più al centro dell'attenzione della realtà provinciale regionale di cui facciamo parte un grazie sincero veramente a ciascuno di voi un grazie anche a coloro con i quali magari sono entrata in rapporti non sempre semplici il mio carattere è un carattere duro e quindi non so bene e quindi mi scuso magari qualche volta di aver di aver usato dei dei toni forse un po' duri ma l'obiettivo era uno solo quello di lavorare di cercare di continuare a lavorare per far crescere per far migliorare per far aumentare il prestigio della città a cui voglio bene grazie signor sindaco mi pare che questa prima parte sia esaurita quindi mentre ringrazio ancora tutti passiamo allora al secondo punto dell'ordine del giorno l'approvazione dei verbali della seduta precedente dal numero 1 al numero 12 della seduta del 28 marzo 2019 pertanto se non ci sono rilievi da muovere possiamo procedere alle consegnere Panero e il consegnere Maggiù sono usciti quindi siamo in 15 14 perché manca anche all'Asia 14 panero vuole votare ancora quindi 14 presenti 15 con panero chiedo scusa 15 con panero sì possiamo votare va bene votazione chiusa quindi delibera approvata all'unanimità passiamo al terzo e unico quindi ultimo punto il rendiconto dell'esercizio del 2018 approvazione illustra l'assessore alle finanze fogliato grazie vi chiedo scusa il mio intervento sarà più arido rispetto a tutti i vostri interventi interventi di prima ho eliminato alcune slide che avevo preparato per cercare di stare nei tempi e anche perché oggi sono molto rappreddato e ho difficoltà a esporre in attesa che il dirigente predisponga le slide preparate ci tenevo a ringraziare tutti coloro che hanno lavorato sul bilancio consuntivo è vero che lo dico sempre la ragioneria ha il compito da assemblare ma assembla un lavoro fatto dagli interi uffici comunali e soprattutto è frutto di un indirizzo politico dato sindaco giunta ma dal consiglio comunale nella sua interezza partiamo Raffaele posso ecco essendo l'ultimo anno volevo vedere alcune condizioni esterne di enti superiori e relativo al rapporto con la cittadinanza che in qualche modo hanno condizionato e condizionano un bilancio comunale quando intendo dire hanno condizionato condizionano non vuol dire sempre in senso negativo ecco però però in qualche modo hanno influenzato fattori esterni crisi economica noi siamo partiti nel 2009 crisi economica ha cominciato a accennarsi nel 2007 nella nostra provincia è arrivata un po' dopo però ha influenzato la nostra la nostra città l'ha influenzato in modo particolare sul tema lavoro disoccupazione crisi agendali sviluppo economico l'ha influenzata sul tema della coesione sociale che ripeto sempre non è sinonimo di socioassistenza ma è di camminare insieme l'ha influenzata sul fatto che in qualche modo non può essere solo chi è chiamato a compiti amministrativi e dare avanti da solo ma deve saper coinvolgere l'intera cittadinanza di qui il tema della cittadinanza attiva e in ultimo la responsabilità istituzionale cioè non fermarsi a quello che la legge dà come compiti prettamente di un ente locale ma assumersi anche delle responsabilità che sono più individuate sulla regione o sul governo condizioni di enti superiori la successiva parliamo il patto di stabilità quante volte in consiglio comunale nelle variazioni di bilancio nell'esame dei bilanci abbiamo parlato di questo paletto che il governo ha imposto agli enti locali per il risanamento della finanza locale ma che non ci ha permesso di fare alcune cose uno per tutti il tema dei mutui sbloccato solo nel finire delle nostre due legitture il taglio ai trasferimenti lo vedremo poi nei numeri più avanti ma ha condizionato molto le scelte di bilancio condannimento della spesa credo anche qui lo vedremo dopo parlerei di razionalizzazione della spesa in particolare sul tema delle spese fisse le entrate comunali dove l'incidenza anche se non toccate delle imposte ma soprattutto delle entrate derivanti da tariffe eccetera hanno avuto una percentuale maggiore sulla somma complessiva delle entrate comunali il nuovo sistema il nuovo sistema contabile che è entrato in vigore qualche anno fa ma che in una logica più di bilancio aziendale ci ha fatto prendere maggiormente coscienza sia gli uffici noi per quanto riguarda l'aspetto il verificarsi dell'aspetto numerario perciò non solo l'impegno ma il fatto che escano i soldi per i pagamenti o entrino delle entrate per trasferimenti per contributi vari procediamo rendo reso conto alla cittadinanza l'abbiamo anche qui sempre detto non è che nel 2009 siamo partiti dall'anno zero vi era una continuità di bilancio di impegni anche assunti in termini precedenti vi era comunque un impegno a onorare un certo indebitamento che era stato assunto nel tempo e pertanto per far fronte agli interessi e all'ammortamento del capitale vi erano alcune tariffe imposte teniamo presente che negli ultimi anni l'aspetto soprattutto dell'imposta è stato molto condizionato dal governo in quanto vi è stato le decisioni a livello centrale hanno preso sempre più piede il tema dei servizi ai cittadini cioè in particolare i servizi a domanda individuale e pertanto la politica tarifaria gli investimenti e uso delle risorse a fronte di risorse per investimenti sempre più limitati dove si basava in molti casi su entrate proprie perciò gli oneri di urbanizzazione in minima parte per quanto riguarda i contributi ben poco per quanto riguarda i mutui perché bloccati dal tema patto di stabilità si è andato molto il tema molto importante il fatto di verificare che gli oneri di urbanizzazione servissero per gli investimenti e non per parte corrente il ragionamento sulle priorità sul fatto di assumersi sempre più la responsabilità di scegliere e di giustificare le scelte effettuate e in ultimo l'adattamento alla realtà cittadina bra come tutte le città è in continuo divenire dieci anni sono lunghi e perciò adattare il bilancio con le variazioni con i vari progetti all'andamento della nostra città aspetti finanziari locali 2018 veniamo all'ultimo anno nell'ultimo anno abbiamo avuto uno sblocco per quanto riguarda l'utilizzo dell'avanzo all'amministrazione anche se sul finire dell'anno questo nel settembre del 2018 due ricalcoli del fondo di solidarietà il primo di 315 mila euro e l'altro di 125 mila euro perciò più di 400 mila se vi ricordate secondi a livello nazionale anche se staccati tantissimo ma dietro Genova e questo ha permesso un'iniezione di liquidità nelle nostre casse comunali con decorrenza primo luglio il tema dei servizi sociali territoriali abbiamo il comune di Bra ha sostituito l'AS come capofila della convenzione ma è una sostituzione impegnativa in quanto ha coinvolto non solo gli uffici delle politiche sociali per quanto riguarda la procedualità ma ha coinvolto tutto il nostro bilancio l'avete visto chi ha avuto voglia di leggersi tutti i capitoli del consultivo per circa 5 milioni di euro questo è l'impatto del chiamiamolo così del bilancio delle politiche sociali territoriali il mutuo credito sportivo qui abbiamo stipulato un mutuo di 726 mila euro a fronte che per le regole della finanza pubblica abbiamo incamerato è stato messo addirittura in ammortamento il mutuo ma per un ricorso della società che era arrivata a seconda non ci ha permesso di iniziare l'opera e pertanto l'aspetto numerario dell'investimento avrà luogo solo quest'anno e il recupero tributario in particolare evidenzierei l'aspetto della S-JEC dove effettivamente il recupero sotto questo aspetto è un recupero non semplice ma che ha dato già nel 2018 dei risultati interessanti pari a 220 mila euro vediamo allora salterei questa andiamo sotto l'aspetto numerario nel 2018 abbiamo avuto una chiudiamo il bilancio con un avanzo di amministrazione di circa 4 milioni e 200 mila euro è uno degli avanzi di amministrazione più importanti degli ultimi anni in parte influenzato anche dal pezzo di avanzo dell'amministrazione derivante dall'incameramento nel nostro bilancio delle politiche sociali a livello territoriale vediamo subito questa grossa cifra come viene come viene suddivisa nella slide successiva dove vedete che il grosso va a fondo rischi va ai fondi pluriennali vincolati cioè il fatto quello che nella contabilità industriale erate risconti che mi determina maggiormente l'impatto dell'aspetto numerario evidenzierei gli ultimi due righe cioè vale a dire la parte destinata a investimenti e la parte libera ecco la parte destinata a investimenti è sostanzialmente in linea con quella dello scorso anno va da memoria sui 130 140 mila euro mentre invece è molto interessante la parte libera in quanto l'anno scorso avevamo solo circa 50 mila euro quest'anno abbiamo circa 410 mila euro che verrà poi impegnato in un tempo successivo ecco da chi sarà ad amministrare ma che sarà molto utile in sede di assestamento di bilancio del mese di luglio andiamo avanti ad analizzare alcune parti del nostro bilancio l'entrata è parte corrente anche qui vedete che i tributi sono rimasti invariati ce lo vedremo poi nel dettaglio le tariffe le aliquote sono rimaste invariate le differenze sono date solo dall'aspetto fisiologico per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF un maggior reddito da parte dei cittadini bridesi pertanto un maggior introito come addizionale comunale IRPEF vi è un aumento dei trasferimenti correnti ma questo è influenzato per oltre 4 milioni di euro dal fatto che nel nostro bilancio vi è il bilancio dei servizi sociali i servizi sociali territoriali vivono molto nei trasferimenti pertanto se togliamo quei 4 milioni di euro siamo attorno al milione e 4 e siamo in linea con quello del scorso anno con il fatto che vi dicevo prima del ricalcolo del fondo di solidarietà entrata estra a tributare perciò l'utilizzo dei servizi da parte dei nostri concittadini come vedete il peso in percentuale sul bilancio comunale ha acquistato notevole importanza nel corso del tempo evidenzierei solo un aspetto il miglioramento del riscorso per quanto riguarda i tributi dove siamo arrivati nel 2018 all'81,36% prego trasferimenti dello Stato qui chiedo scusa ne ho saltata perdonatemi ne ho saltata uno è vero quello che è il dettaglio delle varie imposte allora vedete che c'è un aumento per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF non dovuta all'aliquote una diminuzione nella Tari ma è solo per il fatto che la quota destinata alla provincia è stata scorporata dalla Tari ed è passata a una partita di giro per quanto riguarda per quanto riguarda l'IMO c'è una leggera flessione dovuta alla variazione per il calcolo dell'impositivo delle aree fabbricabili frutto del lavoro che aveva fatto una commissione di tecnici lungo l'anno 2018 e l'eliminazione degli imbullonati per quanto riguarda un leggero aumento della TOSAP avremo sicuramente degli influssi migliori ancora nel 2018 che è anche il frutto del lavoro dell'esternalizzazione alla solità che vi ricordate che ha il compito anche di seguire tutto questo aspetto qui andiamo avanti e passiamo al trasferimento ecco qui è la prova che vi dicevo prima del fondo di solitarietà comunale che passa da 602 380 a 800 125 mila euro cioè vale a dire i due ricalcoli avvenuti lo scorso anno anticipiamo già che abbiamo già avuto notizia che anche per il 2019 vi è avuto un altro ricalco logicamente riferito solo al 2019 pertanto un introito maggiore di 75 mila 75 mila euro ciò nonostante però non dimentichiamo mai e l'ho evidenziato nella slide successiva se Raffaele puoi solo andare ecco da dove siamo partiti cioè dal 2009 al 2018 abbiamo avuto solo da parte dello Stato minori trasferimenti superiori ai 4 milioni di euro e devo dire che una cifra del genere in qualunque bilancio ha la sua importanza ma nel bilancio del nostro comune ha un'importanza estremamente che ha condizionato parecchio tenete presente che parliamo solo di trasferimenti statali qui dovremo aggiungere i minori trasferimenti da parte della regione provincia finché c'è stata e da altri enti pubblici passiamo alla spesa ecco in questo caso siamo riusciti grazie a un lavoro importante da parte degli uffici scoporare il dato della spesa corrente 2018 dalla spesa relativa ai servizi sociali pertanto siamo a 21 milioni 628 28 mila bene rispetto a dove siamo partiti vuol dire sono 1 milione e 700 mila euro in meno e tenete conto però che nell'ambito della spesa corrente è frutto anche di diversi contributi ricevuti per la progettualità in particolare in campo sociale logicamente questo è un calcolo veramente enorme non si poteva arrivare sarebbe stato interessante riuscire a scoporare tutte queste novità per vedere effettivamente la diminuzione della spesa rispetto al 2009 all'incirca sono oltre 2 milioni di euro in meno di diminuzione della spesa l'ultimo dato in basso che avevamo già evidenziato altre volte la percentuale del pagato relativo agli investimenti e visto che parliamo della percentuale di pagato andrei alla slide successiva che riguarda il tema dei giorni fornitori è più interessante ancora quella dopo che è quello che prendiamo dal sito del ministero dell'economia e finanze cioè vale a dire l'indicatore tempestività dei pagamenti cioè i giorni di ritardo rispetto ai tempi stabiliti in fattura da parte dei nostri fornitori ho citato gli ultimi tre anni c'è ancora del lavoro da fare e ci mancherebbe però guardate la media siamo passati da 117 nel 2016 a 86 nel 2017 a 56 giorni nel 2018 con un dato molto importante l'ultimo trimestre del 2018 circa 15 giorni proseguiamo con le anticipazioni ecco qui vi ricordate quanti rilievi della Corte dei Conti a cui poi abbiamo dato risposta il presidente del Consiglio Comunale relazionava al Consiglio in apertura nel 2018 diciamo che da da luglio 2018 non siamo più in anticipazione di tesoreria la somma non sono punte massime la punta massima è attorno al 1.7.000 1.8.000 circa la somma sono 5.7.000 perciò la metà sotto la metà rispetto al 2017 lo vediamo anche ridotte a un terzo gli interessi logicamente è frutto di diversi fattori il ricalcolo avvenuto del fondo di solidarietà l'incameramento questo è un dato positivo è vero che ci ha portato lavoro ma il fatto del bilancio delle politiche sociali e territoriali ecco il fatto anche qui da una parte è dato negativo del mutuo che non si è potuto utilizzare con l'investimento però comunque ha portato liquidità nelle nostre nelle nostre casse ecco un aspetto che non è indicato nella slide però ci è arrivato già anche in alcuni documenti il fatto che non dico solo grazie al nostro comune ci mancherebbe però sapete che il nostro comune la persona del sindaco e del dirigente della ripartizione finanziaria si è interfacciato con i magistrati della corte dei conti anche per spiegare il motivo per cui noi avevamo questi utilizzi ma non come punta massima ma come somma dei vari utilizzi la prova del 9 è che non parliamo di cifre enorme di interessi ma a frutto anche di interlocuzioni la corte dei conti ha cambiato il metodo di analisi e di giudizio anche sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria è tornata a quello che per chi fa il mio mestiere ecco una volta era il massimo scoperto ecco perciò il ragionamento il giudizio solo sulla punta massima che un utilizza perciò in questo caso per noi il milione 7 il milione 8 e non più sulla somma di tutti gli utilizzi proseguiamo passiamo alla suddivisione della della spesa ecco qui farei notare in particolare il tema del del dato del personale dove nel 2018 si è andato a regime il nuovo contratto collettivo del pubblico impiego che ha inciso per circa 165 mila euro se togliessimo questo fattore straordinario abbiamo avuto una diminuzione di sui 300 quasi 400 mila euro di diminuzione del costo del personale perciò il tema dei costi fissi che vi dicevo prima e ha migliorato anche l'indice di rigidità della spesa corrente sarebbe troppo bello dire che l'ha migliorato dal 37 tra il 32 al 26,8 no mi piace fare dei raffronti omogeni il 26,8 è influenzato dalle politiche sociali territoriali nel nostro caso approssimativamente scoporando parliamo di un indice di rigidità spesa corrente al 31% però in continuo miglioramento passiamo ai costi dei servizi per i cittadini evidenzierei l'aumento della percentuale di copertura il tema dei costi che essendo servizio ai cittadini essendo servizi di politica familiare oserei chiamare anche investimento cioè vedete che pur con la diminuzione della spesa corrente non è mai mancato l'investimento per quanto riguarda l'asilo nido la messa scolastica i corsi extrascolastici che vuol dire dopo scuola pre e post orario vi è a parità di tariffe che non sono mai state aumentate l'aumento dell'indice la percentuale di copertura perché i nostri concittadini le hanno usati sempre di più questi servizi faccio un esempio nel 2009 cito due dati proprio perché sul giornale di questa mattina sulla stampa per carità la stampa parlava a livello nazionale del nido io ricordo settembre 2009 era il giorno di inaugurazione di CIS settembre 2009 col sindaco esimina prima che il sindaco andasse all'inaugurazione esiminavamo un dato era uscito il dato dell'anno prima per quanto la posizione del nostro comune nelle liste d'attesa del nido eravamo tra gli ultimi posti siamo riusciti a aprire il secondo micronido si è ampliato il sistema nido perché non parliamo solo del nido dei micronido parliamo giocanido H di Noè tutto il sistema nido ha portato a quasi azzeramento della lista d'attesa per quanto riguarda i nostri concittadini residenti a Bra e che hanno necessità di questo servizio perché poi il dato è che come abitudine le famiglie giustamente fanno domanda anche se poi molti di loro non si tramuta poi una vera necessità perché hanno la copertura familiare e questo è un dato ritengo molto positivo passiamo al tema investimenti che quest'anno è stato condizionato oltre che al fattore dei ricorsi soprattutto per quanto riguarda gli impianti sportivi e pertanto l'accessione di mutui ma poi l'aspetto numerario nel corrente anno anche del bando a cui abbiamo partecipato dei 3 milioni di euro detto dal Ministero dell'interno per la riqualificazione di un immobile in zona Vescurone via Ballerini che per dei criteri a mio giudizio opinabili però a cui devo rispettare ecco stabilita il Ministero dell'interno sono stati finanziati i comuni con disavanzo del bilancio ecco pertanto noi non ci è toccato l'onore di vedere finanziato il nostro investimento parliamo passiamo a come è avvenuto la copertura degli investimenti ecco qui il tema mutui il famoso mutuo vi dicevo prima di 726 mila però ritengo importantissimo il dato che viene dopo a fronte di 1 milione 210 mila circa di ingassi per mesi di costruzione zero a parte corrente è la prima volta tutto dedicato a investimenti tenete presente che si partiva 2007 2008 venivano nel 2007 quasi un milione a parte corrente nel 2008 603 mila 595 nel 2009 lo vedete scritto lì abbiamo cercato sempre di andare in diminuzione quest'anno siamo riusciti ad azzerare completamente anche qui altro tema la diminuzione dei contributi l'abbiamo visto in diverse volte nelle variazioni di bilancio quando intendo contributi intendo il contributo a fondo perduto un contributo vero e proprio si è nato sempre di più per le ore proprie pubbliche e per i fondi rotativi come fossero dei mutui a tasso zero dove andiamo a rimborsare solo il capitale visto che parlavamo dei mutui passiamo all'ultima slide dei numeri che riguarda il tema debito residui di debitamento pro capite allora nel corso di questi dieci anni abbiamo fatto circa 5 milioni di euro di mutui arrotondata la cifra parlo dal 2009 fino al 2018 nello stesso tempo ci sono state rimborso delle quote capitali vi è stato un non dimentichiamolo se non va aderato nel 2012 l'estinzione anticipata di circa un milione di euro di mutui cioè il nostro scopo era un impegno lo vedremo dopo anche che avevano preso con i cittadini di diminuire l'indebitamento perciò siamo passati da circa 20 milioni di euro pur facendo 5 milioni circa 5 milioni di euro di mutui pur quando era conveniente e mandandola sempre a investimenti e non a parte corrente accettando quando erano conveniente le negoziazioni e pertanto questo ha continuato a diminuire un po' meno il debito residuo però siamo andati in diminuzione del debito residuo di oltre 4 milioni di euro perciò ritengo 4 milioni di euro qui oltre sommati ai 4 milioni di euro anche qui oltre della diminuzione di trasferimenti solo da parte dello Stato che abbiamo visto prima ritengo che la gestione del nostro bilancio l'equilibrio di bilancio è stato veramente amministrato con molta oculatezza su questo fronte su questo fronte fatemi ancora permettetemi tre slide di riflessioni ecco dopo l'aspetto numerico era importante visto che l'ultima volta che parliamo di bilancio di questa legislatura prendere un documento dove siamo partiti nel luglio 2014 esattamente con delibere 32 del 16 luglio 2014 è stato presentato da parte del sindaco il programma amministrativo l'ho messo adesso e non all'inizio prima volevo far sì che ci fossero alcuni aspetti numerici anche qui non le elenco tutti quello che erano gli impegni presi nel programma però ne ho evidenziati diversi contenimento della spesa massima prudenza del ricorso al credito dall'assistenza alla solidarietà alla corresponsabilità garantire l'equità del trattamento fiscale tributario una città che non lascia nessuno indietro una città dove le persone partecipano una città più vivibile una città che aiuta l'economia potenziamento dei servizi scolastici per la famiglia una città fondata sulla coesione sociale lo dico con umiltà certamente il lavoro è tanto e anche si poteva anche fare di più se le risorse fossero state alte credo che con i dati numerici fatti presenti prima abbiamo rispettato l'impegno preso nel 2014 nel luglio 2014 presentando il programma amministrativo non siamo stati da soli nel rispettare questo un grosso grazie nel rispettare questo lo dobbiamo anche alla città e qui è importante il ragionamento da una città privata a una città pubblica perché se siamo riusciti a mantenere inalterato in qualità quantità in tariffe le agevolazioni i servizi e domande individuali vuol dire che una parte è scaricata sul bilancio indistinto vuol dire che tutti hanno partecipato tutti ci hanno creduto che è una città importante se in servizio le famiglie hanno la loro dignità anche chi non ha i figli che va a scuola l'applicazione di alcune imposte è parzialmente attenuate da fondi compensativi qualche anno fa si è stato il discorso dello spostamento della Tari come avevano già fatto alcuni anni prima i principali comuni della provincia di Cuno ma abbiamo creato dei fondi compensativi la cui manifestazione numeraria più importante per quanto riguarda il commercio e l'artigianato avverrà festando la corresponsabilità sociale per l'emergenza dove è permesso dalla legge e nei rispetti della persona a fronte dei progetti di politica sociale si richiede una corresponsabilità delle persone la scommessa di città educante quante lavoro fatto con le varie agenzie educative del territorio con i quartieri le frazioni con le scuole questo lavoro non è stato solo un lavoro di idee ma anche un lavoro di risparmio numerario perché investire sotto l'aspetto educativo vuol dire risparmiare dei soldi dopo autonomia del terzo settore con partecipazione progettuale per quanto riguarda il welfare locale ormai tantissimo tempo che abbiamo capito che non possiamo essere noi protagonisti esclusivi vuol dire procedere insieme rispettando la dignità dei nostri partner senza metterci il cappello sopra dando prima di tutto l'esempio per quanto riguarda la sovietà economica e l'attenzione alla gestione della spesa pubblica l'ultima ho avuto fortuna un po' anomala perché normalmente quando si va in vacanza io poiché piacciono molto i gialli normalmente vado via con un sacco di libri gialli invece quest'estate mi è stato regalato un libro della che si tratta proprio come ho intitolato questa slide le città del benvivere che è curata da un economista per me uno dei più bravi a livello nazionale becchetti leonardo becchetti ha avuto anche come maestro zamagna ecco su questo e ha raccolto lezioni osservazioni molto concrete di tanti economisti che si sono cimentati nell'essere almeno per un giorno dico così lo sto forzando è il significato passatemelo amministratori di un ente locale perciò hanno esaminato i vari aspetti di un ente locale ecco la scommessa per il futuro per il presente ma anche per il futuro è quello che viene chiamata politica generativa cioè valorizzare il capitale di energie competenze passione e tempo cioè si teorizza dal punto di vista economico ma come fattore di aumento del prodotto interno locale il fatto di fare squadra a livello di città con tutte le parti vive della nostra città progettualità noi parliamo sovente ci va del tempo a realizzarla ecco cambiare mentalità andare una progettualità per il tempo che duri nel tempo che si autoalimenti nel tempo questo vuol dire che anche chi ragiona nel campo delle politiche sociali c'è un cambio di mentalità perché deve far sì che poi diversi progetti si reggano da sole bene comune reciprocità che se vogliamo fa il paio con bene privato ecco importanti tutti e due ma qual è la fondamentale differenza il bene comune richiede per forza la parola reciprocità in cui c'è un continuo scambio fra enti fra enti e cittadini la sussidiarietà ecco noi l'abbiamo sempre solo teorizzata ma soprattutto la sussidiarietà circolare è un fattore di sviluppo economico cioè il fatto che un ente locale abbia nei suoi compiti anche di mettere in moto tutte le realtà che ci compongono la città per aumentare lo sviluppo economico del proprio territorio è fondamentale e si chiama sussidiarietà circolare conoscenza delle conseguenze cioè dare una catena di senso al mio lavoro cioè vivere la città per esaminare le conseguenze e porre anche delle rettifiche al mio lavoro in ultimo lecificenza dei servizi incontro pubblico e privato nei limiti della legge nei limiti delle norme del rispetto del recipro questa è la fondamentale scommessa in quanto il pubblico non può arrivare dappertutto per dare dignità ai propri servizi e per dare una risposta efficace ai bisogni dei propri cittadini e non sto parlando di social assistenza ma parlo di coesione sociale a questo punto è un lavoro comune di squadra con rispetto reciproco e che io credo che terminando ecco quest'ultima relazione ecco vi chiedo scusa se in tutti questi anni forse vi ho vi ho tediato almeno due volte all'anno tantissimo credo che qui di strada ce ne sia ancora tante da fare non si è mai né nati imparati né aver raggiunto la meta credo che però tutti insieme con i rispettivi luoghi compiti chiedo scusa ruoli noi come amministrazione chi in consiglio comunale chi nei vari uffici credo che nel nostro comune si sia seminato si sia tracciato una strada andando in quella direzione non potrà che portare buoni frutti grazie grazie all'assessore fogliato adesso è aperta la possibilità del dibattito ricordo che in questa occasione i tempi possono essere raddoppiati quindi da 15 a 30 minuti da 5 a 10 la replica e la dichiarazione di voto a sua volta da 5 a 10 possono non vuol dire devono ovviamente consigliere ambrogio prego grazie presidente vorrei evidenziare la precisa e puntuale illustrazione del rendiconto di bilancio che abbiamo appena ascoltato e volevo ringraziare innanzitutto gli uffici a partire dal dirigente dottor Grillo e a tutti i suoi collaboratori per il prezioso lavoro svolto attraverso numeri e percentuali valutiamo e rendicontiamo ai nostri concittadini in maniera trasparente l'operato di questa amministrazione l'obiettivo è quello di misurare lo stato di salute del comune e confrontare i risultati che sono stati raggiunti con le aspettative dei braidesi tenendo conto del rispetto di legge del pareggio di bilancio tra entrate e uscite questa amministrazione per sua scelta politica ha mantenuto la pressione fiscale invariata anche quando avrebbe avuto la facoltà che la legge nazionale consentiva di aumentare le imposte locali perché abbiamo a cuore il benessere delle persone e ci rendiamo conto che in questi ultimi anni la crisi economica ha colpito duro anche nelle nostre zone e quindi anche per questo riguardo il discorso della pressione tributaria si è proseguito nel diminuire il costo dei vari servizi offerti così come appena stato illustrato dall'assessore Fogliato dobbiamo anche tenere conto che i trasferimenti dello Stato e della Regione sono diminuiti negli ultimi anni e non di poco è stato già evidenziato ma volevo ribadire che dal 2009 in poi sono 4 milioni di euro ed è una cifra molto importante per il nostro bilancio perché posso immaginare tutte le cose che si sarebbero potute fare con questi soldi il discorso del capitolo dell'indebitamento quindi dei mutui che sono stati contratti in questo periodo qua rendi contiamo che in questo bilancio si è sempre cercato in questo periodo di diminuire il debito nonostante le tante opere realizzate in questi ultimi anni e che sono sotto gli occhi di tutti noi voglio pensare alle varie riqualificazioni che sono state fatte in questi anni qua e appunto la città ha cambiato veramente aspetto in questi anni ecco un altro aspetto che mi piace evidenziare è che è stata posta attenzione al riguardo dell'anticipo di tesoreria anche qua sempre in un'ottica di risparmio e questo strumento è stato utilizzato con molta occulatezza e così gli interessi appunto sono stati molto contenuti e un altro aspetto che è stato anche lì già evidenziato ma che vorrei ribadire è quello che anche i tempi di pagamenti ai nostri fornitori si sono diminuiti soprattutto si è fatta attenzione alle aziende di piccole e medie dimensioni un'altra cosa che ho colto è proprio anche il discorso del recupero delle imposte che non erano stati incassate negli anni precedenti e i 220 mila euro che sono stati diciamo incassati ancora dalla precedente gestione della GEC da una parte quindi tutti questi dati e dall'altra la valutazione della molteplicità dei servizi offerti alle persone e alle famiglie con la percezione della buona soddisfazione da parte dei concittadini che questi servizi utilizzano quotidianamente ma siccome questi aspetti so che saranno poi trattati da altri colleghi non voglio rubare il campo poi a nessuno ma concludo evidenziando che l'organo di revisione di bilancio nella sua relazione ha testato quindi la corrispondenza del rendiconto che stiamo discutendo con le risultanze di gestione ed ha espresso parere favorevole a questo documento bene direi che mi riservo di prendere poi la parola successivamente alla fine di tutti gli interventi per esprimere poi la dichiarazione di voto da parte della maggioranza e al momento direi che mi fermo qua grazie grazie a lei consigliere Ambrogio consigliere Marengo prego grazie presidente ma inizio facendo un ragionamento filosofico prima avevo nominato Kant mi correggerà sui corsi e ricorsi storici forse era Vico Gian Battista Vico che ne parlava derivazioni di Platone ancora iniziai il mio primo intervento in quest'aula nel 2014 il mio primo intervento lo ricordo parlando di lavoro e forse destino corsi e ricorsi storici che si finisca nell'ultimo consiglio e anche questa volta possa parlare di lavoro partiamo da un presupposto amministrare non è facile non è semplice lo dice chi è stato l'opposizione ma chi ha rispetto per chi tutti i giorni deve amministrare questa città sindaco e assessore e soprattutto deve far quadrare conti impresa non facile oggigiorno per me non è tutto sbagliato quello che fa il mio avversario politico benvengano ed ho atto all'assessore delle parole da lui pronunciate prima con i dati che ci ha mostrato secondo me è assolutamente positivo e lo dico dall'avversario politico il fatto che si sia quasi azzerato i tempi nelle liste d'attesa del micronido lo ricordava la consigliera che mi ha preceduto molto bene anche i tempi di pagamento per i fornitori abbiamo visto sostanzialmente una diminuzione del 50% dal 2016 al 2018 quindi sono cose che in tutto onestà mi sembra di poter riconoscere come cose assolutamente positive ci sono però cose che a mio giudizio così positive non sono oggi noi non possiamo esprimere solo un'opinione sul rendiconto del bilancio 2018 della gestione finanziaria del 2018 ma io credo che si debba oggi tirare le fila di questi 5 anni e sostanzialmente di questi 10 anni non ero presente nella passata consigliatura ma c'è un cursus per cui ovviamente le politiche continuano nel corso del tempo il sindaco prima esprimeva soddisfazione per il fatto che in città abbiamo un'occupazione molto alta beh io non sarei così contento fossi in lei perché e questo lo dice l'articolo uscito oggi su Targato CN tra le sette sorelle noi siamo la quarta oltre Alba ci sopravvanzano Saluzzo e Cuneo siamo seguiti ma a brevissima distanza da Fossano Savigliano e Mondovì a Braccio un'occupazione del 68,1% siamo i quarantesimi come posizione in provincia ricordava prima l'assessore nel suo intervento che il consuntivo è condizionato l'ho detto subito all'inizio dalla crisi economica e dal lavoro e dalla disoccupazione beh quindi questo sta a significare che vi è coscienza del fatto che la crisi economica ha attanagliato tutti i comuni in questo caso il nostro ma che è passata questa espressione poco ha fatto questa di risultato c'è? si sente? perfetto stia non utilizzerò tutto il tempo stia tranquillo presidente credo che ecco questa questa serata serva per lasciare un piccolo una piccola impronta di quello che è stato il nostro come il nostro lavoro di consiglieri comunali di quello che sono le cose che probabilmente forse ci stanno più a cuore nessuno di noi l'ho detto tante volte è un tuttologo io mi sono sempre occupato per quanto mi riguarda di lavoro e avrei voluto portare anche in questo consesso le tematiche legate legate al lavoro però ecco credo che davvero questa amministrazione non abbia fatto molto per incentivarlo noi in questi anni con i colleghi insomma Agli ed Elena avevamo proposto emendamenti nei passati bilanci in cui si cercava veramente di dare un'impronta che potesse in qualche modo favorire l'occupazione a bravo incentivando anche economicamente quelle aziende quelle attività economiche commerciali artigianali che potessero incentivare il lavoro e le assunzioni ovviamente questo non è stato preso in considerazione spesso e volentieri ciò che propone la minoranza non viene tenuto conto ma perché comunque c'è una politica sociale alle spalle che fa propendere le decisioni da una parte piuttosto che da un'altra non abbiamo assistito in questi cinque anni ma credo negli ultimi dieci anni all'inaugurazione di una nuova azienda venuta ad aprire a bravo abbiamo visto in commissione urbanistica richieste di ampliamento questo sì alcune aziende hanno fatto alcune richieste sono state accolte ma nuove aziende venute ad aprire a bravo non ne abbiamo viste in compenso il commercio soffre terribilmente questa amministrazione ha probabilmente con le buone intenzioni credendo di diciamo così ristrutturare il centro cittadino in via Principi e in via Vittorio credendo di poter incentivare il percorso commercio se voi oggi parlate con le persone con i commercianti vi possono dire quello che stanno dicendo noi in queste settimane ma come hanno detto nei mesi scorsi e come hanno detto fin dal primo momento non hanno visto nessun netto miglioramento nelle loro entrate perché questo perché sostanzialmente noi non possiamo come amministrazione pensare che ristrutturando una via magari organizzando una ZTL le cose possono migliorare la gente possa in qualche modo entrare di più nei nostri negozi manca il denaro e quando manca il denaro sostanzialmente soffriamo tutti in particolar modo il commercio ma se è così se manca il denaro è perché manca anche molto lavoro e io lo vedo tutti i giorni in prima persona abbiamo avuto delle crisi aziendali in questi anni non ho mai visto al di fuori di alcune prese di posizione dovute di solidarietà magari ai lavoratori però avere in questa amministrazione un'incidenza nelle decisioni o nei tavoli che contavano e lo posso dire a ragione visto che conferenze di capigruppo sono state diciamo così organizzate solo ed esclusivamente per metterci al corrente di quello che avveniva può un'amministrazione creare lavoro? certo che no ma può incentivarlo magari chiedendo magari incentivando aziende a venire ad aprire sul nostro territorio e non è stato fatto magari incentivando in qualche modo e ovviamente questo incentivo deve essere un incentivo economico portare aziende nuove ad aprire sul territorio abbiamo una grande fortuna quella di avere un casello autostradale a pochi passi speriamo di poter avere anche finalmente l'asticunio completata in tempi rapidi vedremo ma questo non può e non deve in qualche modo condizionare il giudizio su quello che poteva essere fatto e non è stato fatto in compenso abbiamo una spesa sociale molto alta non voglio prendere troppo in considerazione il 2018 perché sappiamo bene che dal primo di luglio la spesa territoriale è tornata a carico del comune quindi abbiamo cifre molto alte ma il 2018 primo luglio 2018 ma anche negli ultimi anni gli stanziamenti sono stati elevati per la spesa sociale e dobbiamo ringraziare alcune organizzazioni di volontariato faccio un esempio l'SOS Bra del dottor Dutto che pagano una retta ai ragazzi che magari di un centinaio di ragazzi di Bra che magari le cui famiglie non potrebbero permettersi di pagare la retta scolastica la mensa scolastica si parla di 3 milioni e mezzo 4 milioni all'anno benissimo questa è una spesa dovuta nel momento in cui i nostri concittadini sono in difficoltà però chiediamoci anche perché sono in difficoltà molto probabilmente perché manca lavoro nel momento in cui si potesse in qualche modo aumentare quella percentuale di cui parlavo prima che riporta targato CM cioè a Bra c'è un 68% di occupati ad Alba città vicina a noi è il 73% quindi già un 5% in più creare lavoro o incentivare la creazione di lavoro significa immettere in circolo denaro quindi le famiglie possono spendere possono entrare nei negozi e comprare faccio un esempio personale che è una cosa che mi colpisce tutte le volte che la racconto circa 4 anni fa il mio dipendente nel momento in cui ha ritrovato lavoro dopo parecchio tempo dopo almeno un paio d'anni di disoccupazione mi disse una cosa che mi fece veramente riflettere e mi disse sai Roberto cosa ho fatto col primo stipendio che ho preso ho fatto una cosa che non facevo da molto tempo ho portato la mia famiglia a mangiare una pizza noi oggi forse ecco questa cosa la diamo sempre un po' per scontata ma per famiglie che vivono una difficoltà economica anche andare a mangiare una pizza rappresenta un qualcosa di positivo e di diverso dal solito però ragionando dico ecco questa persona che ha trovato lavoro che ha preso lo stipendio quella sera ha portato del denaro fresco in quella pizzeria quindi i titolari hanno guadagnato dei soldi hanno la possibilità di pagare dei dipendenti creano così un circolo virtuoso purtroppo io in questi anni da parte di questa amministrazione non ho visto alcuna tipologia di intervento svolto a favorire l'occupazione in questa città dopo dieci anni di amministrazione è stato creato un bel evento lo riconosco che è stato io lavoro a febbraio che probabilmente ha anche dato qualche bel risultato ma dopo dieci anni di amministrazione proprio all'ultimo minuto dell'ultimo diciamo così dell'ultimo momento possibile iniziative come queste sarebbero state belle se fossero state fatte in passato ma non peraltro perché avrebbero dato l'idea di un incentivo da parte di questa amministrazione a voler considerare il lavoro come una priorità purtroppo non l'ho visto e lo dico con rammarico non probabilmente è l'ultimo intervento che faccio oggi in questo consesso non so se farò parte del prossimo consiglio comunale io l'ho iniziato riconoscendo questa amministrazione dei meriti perché non si fa sempre tutto male non si fa sempre tutto sbagliato però per quello che io ritengo essere una questione molto importante per la città non soltanto per bravo per qualunque città e qualunque paese che è il lavoro io questa questa capacità e questa empatia nel creare lavoro io non ho veramente non ho visto nessun input da parte di questa amministrazione credo che molto ci sia da fare nessuno crede in un miracolo nessuno dice che si deve iniziare e domani avere un risultato ci mancherebbe oggi si possono fare si possono creare degli incentivi eventualmente magari per aziende che vengono ad aprire sul territorio piuttosto per quelle aziende che assumono ma la risposta è sempre in un periodo medio-lungo e quindi bisogna avere una concezione della gestione della cosa pubblica legata al lavoro e ahimè io questa non l'ho vista credo che molto indipendentemente da chi sarà il nuovo sindaco resti da fare credo che se non partiamo dal presupposto che il lavoro nuovo o vecchio che possa essere ma riportato in auge se non partiamo da questo fondamentale e chiunque amministrerà questa città probabilmente partirà col piede sbagliato col piede sbagliato come finisce questa amministrazione da questo punto di vista ovviamente partendo da questo presupposto l'intero impianto che noi analizziamo stasera non può che essere a mio giudizio negativo si parte proprio da una visione completamente totalmente diversa e credetemi non penso che sia neanche una questione di centro-sinistra di centro-destra sopra sotto credo che sia solo una questione di buonsenso credo che il buonsenso dovrebbe muovere i nostri passi indipendentemente da come la pensiamo politicamente ma credo anche che il buonsenso in politica sia quello di avere la capacità non soltanto di guardare il futuro ma vi dice ricordo forse il consigliere a Milazzo che diceva prima la capacità anche di sognare di vedere nel nostro futuro e nel futuro della nostra città un qualcosa di diverso credo che questa manchevolezza se mi passate il termine questa miopia anche in un certo senso da parte di questa amministrazione abbia portato i risultati che vediamo che vediamo oggi ma ripeto non è colpa di questa amministrazione non fraintendete le mie parole ma non ho visto nessun input veramente a poter gestire in maniera diversa tutto il discorso legato al lavoro che non è soltanto il discorso lavoro azienda ma il lavoro nei negozi nelle piccole attività artigianali incontrando gli artigiani molti sono miei clienti ma così come i commercianti mi dicono spesso la stessa cosa e cioè che a volte potrebbero avere il lavoro potrebbero magari pensare di assumere una persona ma spesso sono frenati non soltanto dai vincoli diciamo così dettati dalla tassazione statale per quanto riguarda le assunzioni ma anche dal fatto di non avere poi magari un ritorno da queste assunzioni come avevamo proposto con i colleghi di minoranza in passato proprio per venire incontro a queste esigenze da parte di alcuni nostri concittadini di molti nostri concittadini si era proprio pensato questo cioè di portare un incentivo a tutte quelle attività economiche che potessero in qualche modo pensare a delle assunzioni poi si sarebbero dovute strutturare ci mancherebbe altro però questo era la pietra migliare da cui secondo noi si doveva partire e questo sarà la pietra migliare da cui partiremo se il 26 di maggio i braidesi riconosceranno al centro-destra la vittoria riportare il lavoro al centro di tutto grazie grazie a lei consigliere Marengo consigliere Gaia prego non sono ancora ma io vorrei vorrei sottolineare la passione con la quale l'assessore Fogliato ha predisposto e illustrato questo bilancio una grande passione che l'ho visto veramente coinvolto potrei dire che potrei definire questa sua passione come quella che il codice civile chiama quella del buon padre di famiglia mi è parso di vedere un buon padre di famiglia che fa di tutto per far quadrare i conti io ho la passione per i bilanci proprio chiedo scusa ma non ce l'ho questi giorni provando a leggere lo dicevo prima dottor Grillo quella relazione e tutto ho trovato un'estrema difficoltà io lavoro con i numeri ma tutt'altro tipo di numeri quindi una grande difficoltà negli investimenti negli impegni di spesa ammortamenti due cose mi sono rimaste veramente impresse quello del taglio dei trasferimenti quindi questi 4 milioni in meno che lo Stato non ci ha dato e poi un altro dato che fa parte un po' di quello che può essere il mio lavoro il l'azzeramento degli milioni di urbanizzazione che non vengono più spesi come spesa corrente ma come investimenti questo è una cosa veramente nottele ho letto in realtà il primo è passato molto velocemente quelli che sono stati gli interventi fatti nel campo dei lavori pubblici quindi nell'edilizia pubblica rifacimento bagni con abbattimento barriere architettoniche in una scuola materna collodi messa in sicurezza della copertura palestra pellizzare con carattere di estremurgenza rifacimento dell'impianto elettrico nella biblioteca per mezzone copertura loculi e via dicendo nelle opere stradali diciamo c'è stato un leggevo anche nella relazione un intervento della provincia diciamo ai confini di Bracom con l'allargamento della via Cherasco e il rifacimento del tratto della seta del Bergoglio sono stati fatti nuovi marciapiedi in via Gabotto Borgo San Bernardino San Matteo è stata messa in sicurezza la pista ciclabile in via Rolfo è stata fatta la nuova pavimentazione antitrauma nei giardini di via Piumati piccole cose ma comunque importanti è stato fatto in un piano d'asfaltature è stato riasfaltato via Riorgimento via Silvio Pelico via Craveri via Ospedale via Gipigandino sono stati illuminati sette attraversamenti pedonali importantissimi questi per chi circola nelle ore sera all'imbrano avere gli attraversamenti illuminati con queste luci alette che mettono in risalto la figura di una persona che sta attraversando enormemente importante è stata rifatta l'illuminazione di Piazza Roma e la pulizia di fossi manutenzione del verde ho letto anche che nell'ambito degli impianti sportivi diciamo ricorsi vari non hanno consentito di fare dei lavori di rimessa a posto della pista d'atletica e la pavimentazione sentivo prima sentivo prima parlare di cosa ha fatto il comune a favore del lavoro ecco io non ho partecipato ho partecipato gli ultimi sei mesi quindi diciamo che diciamo che non non ho seguito il consiglio comunale non ho seguito i lavori che sono stati fatti ma li ho seguiti da sempre cittadini e ritengo che il lavoro che ha fatto il comune nella riqualificazione del centro storico cioè la rimessa a posto della via principe della via udisio ecco nel rendere gradevole il centro storico con un arredo urbano che è veramente bello e che ci viene invidiato da chi arriva a Bra io sento persone magari non me ne accorgo girando sempre per Bra ma sento amici conoscenti che vengono da fuori e ci fanno e così diciamo ci 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 non ringrazio ci ci fanno presente come sia bella Bra Bra è veramente bella e allora mi dico cosa può fare di più un comune se non facendo queste opere che fanno sì io ti metto posto il centro storico beh tu commerciante ti trovi un bell'ambiente gradevole e allora apri la tua attività ecco mi chiedo cosa cosa possa fare un comune di più il comune in questi anni ha gestito un piano regolatore nel piano regolatore ci sono sono state fatte aree predisposte aree per nuovi insediamenti produttivi commerciali artigianali ma io ricordo vent'anni fa 15-20 anni fa ma quante aziende volevano insediarsi in Bra l'ultima è stata è stata la tesi ecco quante aziende volevano insediarsi in Bra e noi non avevamo nessun appezzamento di terreno urbanisticamente predisposto per ospitarli ma veramente avevamo il PIP che era durato una cosa lunghissima non avevamo un posto e naturalmente queste aziende si sono rilocalizzate tutte attorno a Bra verso Roretto verso verso Alba ecco quindi e ripeto cosa può fare un comune di più io penso che veramente veramente il comune abbia creato per quello che poteva le condizioni ha difeso delle volte io mi sono trovato non d'accordo con il sindaco parlando come dico da semplice cittadino ha tentato in tutti i modi di salvaguardare il piccolo commercio nel centro storico il centro commerciale naturale questo anche tenendo lontani nuovi insediamenti nuove richieste di centri commerciali e tutto quindi tentando di tutelare come poteva al punto che tante volte ho detto ma se io la domenica parto vado da Decathlon vado e trovo pieno di braidesi che che corrono e vanno fuori bra gli ho detto ma loro perché anche noi non predisponiamo a qualcosa perché i nostri cittadini devono scappare quindi io mi chiedo cosa poteva fare di più un comune poi per carità prima sentivo anche parlare burocrazia e tutto di buon senso buon senso il buon senso è una gran bella cosa io ogni tanto ogni tanto così se vogliamo divulgare un po' mi 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 confronto con i miei giovani colleghi di ufficio che mi dicono ma perché veniamo subissati di richieste eccetera il buon senso il buon senso è difficile da interpretare è difficile da quello che è buon senso per me non sarà magari buon senso per te ecco quindi allora io ringrazio l'assessore Fogliato per questo bilancio che ha predisposto ringrazio l'amministrazione per 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 quello che ha fatto adesso io ho fatto il mio intervento per quello che che ho visto nelle mie commissioni urbanistica edilizia urbanistica e lavori pubblici e quindi penso che sia stato fatto un buon lavoro grazie grazie consigliere Gaia consigliere Milazzo prego una piccola riflessione proprio parlando del lavoro il lavoro per me effettivamente è essenziale e ribadisco quando ha detto già l'ingegner Gaia ad ognuno le proprie competenze non è che noi possiamo stampare i soldi da dare per essere spesi e neanche non possiamo obbligare dell'azienda esterna a venire qua dobbiamo creare le condizioni le condizioni con il nuovo PIP con il nuovo piano regolatore ci sono adesso purtroppo c'è la stasi dappertutto non solo qua quindi dobbiamo anche tenere conto di questo nel fatto che il lavoro ecco sia diminuito invece per quanto riguarda i riferimenti al lavoro nelle attività commerciali allora vorrei fare la piccola riflessione su quanto è avvenuto ieri in Brà cioè ieri già domenica veramente già sabato pomeriggio con l'inaugurazione della mostra dell'artigianato poi domenica con il suo massimo e ieri fino a quando la pioggia al tempo ce l'ho permesso io non ho mai visto tanta gente così in Brà veramente tantissima più umani di persone mi ricordava Cisa ricordava Cisa ieri quando mi muovevo avevo quasi timore anche perché ultimamente non riesco a stare moltissimo in mezzo alle grandi fiumane di persone preferisco le entità singole però vabbè questo è un problema mio però ho visto moltissima gente avevo degli ospiti a casa solo una riflessione da dire non è un mio giudizio personale nei confronti comunque di quanto viene fatto o è stato fatto però potremmo pensarci anche perché l'amministrazione non può obbligare nessuno comunque avevo gente persone di Alba a pranzo e mi hanno detto caspita ma a Brà i negozi sono chiusi però io mi sono difesa dicendo beh l'amministrazione prima di tutto non può obbligare i negozianti a tenere aperto perché ad ognuno le sue competenze ci sono i loro rappresentanti di categoria dove devono invogliare vabbè e in più ho detto noi puntiamo molto sulla fiera perché da anni quello che conta sembra è la fiera quindi in questo senso qua però su una cosa aveva ragione quando io le ho risposto questo lei mi ha detto questa persona di Alba ad Alba i negozi in una situazione simile sarebbero stati tutti aperti allora il mio non è un rimprover sia ben chiaro anche perché in questo momento per elettorale sarebbe molto grave e facesse un rimprover non sono così sciocca ma è una riflessione vorrei che ci pensassimo cioè vorrei che veramente non fosse solo l'amministrazione ad aiutare il commercio ad aiutare creando non voglio ripetere quanto ha detto l'ingegner Gaia sulle condizioni che sono state create per questo ma una cosa è certa che non è tutto sbagliato quel proverbio che dice aiutati che accetta aiuta grazie grazie consigliere Milazzo c'è nessuno che vuole intervenire consigliere Tipodi prego grazie siamo qui a dare il nostro giudizio su quello che è l'impianto del rendiconto già in in fase di previsionale noi avevamo dato nostro parere negativo su quelle che erano le ambizioni le prospettive di questa amministrazione non mi dilungherò un parere negativo tenendo in considerazione assolutamente la buona volontà di questa amministrazione a cercare di risolvere i problemi che comunque si attenagliano nella nostra città questa buona volontà che non è bastata riteniamo che il nostro parere sia negativo direi semplicemente dando alcuni punti a tutta l'assemblea noi riteniamo che Bra se per certi aspetti ha avuto alcuni miglioramenti non possiamo dire che però su altri si sono fatti molti passi avanti se per alcuni consiglieri che vedono Bra migliore Bra più bella Bra dove tutto va bene noi siamo quella parte di consiglieri dove pensa che Bra sia sì bella che però non vada proprio tutto bene e che forse l'amministrazione qualcosa di più avrebbe potuto fare anzi partiamo dalla questione commercio si parla tanto di commercio si parla tanto di garantire di proteggere quello che è il nostro centro commerciale naturale che viene considerato un bene comune della nostra città cosa che deve essere ma riteniamo che per salvaguardare quello che è il nostro centro commerciale naturale questa amministrazione poco abbia fatto non solo ed esclusivamente per far sì che il nostro centro cittadino sia visione eventi manifestazioni visione a flusso di gente anche a livello di turisti che vengono da fuori e quant'altro ma nella quotidianità ha fatto sì che il nostro centro commerciale cittadino non prendesse poi diciamo il volo noi abbiamo un forte bisogno di parcheggi il nostro commercio cittadino ha bisogno di parcheggi noi dobbiamo pensare che i nostri commercianti del centro e non soltanto oltre a dover seguire quella che è diciamo la concorrenza di una nuova tipologia di commercio che è web online e quant'altro esistono anche i centri commerciali ma allora non andiamo a vedere qual è la concorrenza che potrebbero fare i vari siti web dove c'è l'e-commerce e quant'altro andiamo a vedere quello che noi potremmo fare per il nostro commercio per mettere sì per far sì che il più possibile i nostri commercianti siano messi diciamo sullo stesso piano qua non è una questione di fare una lotta ai centri commerciali assolutamente non voglio essere minimamente contraddetto o magari non capito centri commerciali funzionano perché vi è tutto ma come ci potrebbe essere tutto all'interno del nostro centro cittadino ma perché vi sono dei parcheggi c'è fluidità per l'arrivo le persone arrivano parcheggiano fanno le proprie compere finiscono di fare le proprie compere prendono e tornano a casa magari i parcheggi sono anche soprattutto gratuiti e cominciamo a pensare a questo allora da quel momento lì avrei potuto dire sì c'è un vero e reale sforzo dell'amministrazione per mettere in condizione quelli che io ritengo eroi che al mattino alzano le proprie serrande per cercare di portare la pagnotta a casa sperando che vi passi qualcuno di fronte alle proprie vetrine e entri a fare i propri acquisti punto cardine parere negativo per quale motivo altra questione noi visto e considerato per come ho già detto prima nella fase di ringraziamento delle comunicazioni parlavamo di che cosa parlavamo che del fatto che sono dieci anni che c'è questa amministrazione ricordo che nel programma elettorale dieci anni fa quando entrai nel programma elettorale del centro sinistra vi era un importante un importante intervento che era quello dell'interramento dei binari questo interramento dei binari è rimasta una semplice promessa elettorale e questo dobbiamo dirlo e dobbiamo dirlo in maniera chiara ma non c'è da vergognarsi assolutamente è rimasta una promessa elettorale la nostra città rimane e continua a rimanere divisa tra bra 1 bra 2 diciamo di dover utilizzare quello che sono le vie alternative quindi le tangenziali e quant'altro e mai questa amministrazione si è permessa ma mai 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 di pensare che forse vi siano delle uscite della tangenziale magari da illuminare perché per rendere anche più facilmente accessibile quello che potrebbe essere uno 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 diciamo degli strumenti che potrebbe far sì che venga alleviato il traffico interno della nostra città diciamo che azioni da quel punto di vista non ne sono mai state fatte altra questione è vero abbiamo fatto abbiamo fatto interventi di diciamo anche infrastrutturali ma l'abbiamo parlato anche in altre occasioni parliamo dei marciapiedi della salita degli orti se quella è sicurezza stradale io avrei magari pensato a fare della sicurezza stradale in altri ambiti molto più importanti e più sentiti all'interno della nostra città e per di più per tornare al discorso che per alcuni consiglieri hanno affermato e ribadito che c'è stata un'importante riqualificazione del centro così non si può dire per le periferie o per le frazioni e di questo è sotto gli occhi di tutti quindi noi non pensiamo che questa amministrazione abbia fatto tutto male ma ci sarà sicuramente con chiarezza pensare che questa amministrazione oltre alle cose dette sarebbe dovuta passare un attimino ai fatti pensare che l'ultima che l'ultima azienda che rimane nella memoria di consiglieri più anziani di me sia la tesi mi fa non avere un'idea positiva di quello che è accaduto in questo in questo decennio ma domando e io questa domanda me la sono posta e un pochettino siamo andati a guardarci attorno in altre situazioni in altri ambiti esistono dei veri programmi di agevolazione per i nuovi insediamenti e stabilimenti produttivi cosa che noi non siamo riusciti a fare in questa città ma un'altra cosa sta diventando veramente un po' complicato fare tutto ma ci sta oggi è complicato anche buttare l'immondizia la separiamo ci mettiamo tutta la buona volontà richiediamo tutta la buona volontà ai nostri con i cittadini facciamo il possibile raggiungiamo anche ottimi risultati anche ottimi risultati pensate abbiamo raggiunto ottimi risultati anche senza aver fatto tutta questa introdurre tutta questa complessità in questa tipologia di raccolta che tra virgolette quasi quasi ci da ci pone nelle vesti nelle vesti dello sceriffo che controlla il vicino se mette o non mette nella propria spazzatura nella propria pattumiera il sacchetto giusto o il sacchetto sbagliato paradossale ma per di più va bene accettiamo pure questo andiamo avanti miglioriamo ma arriviamo al punto almeno di essere sinceri di essere chiari di portare di tendere in quello che è un minor costo una minor tariffa per quelli che fanno bene la raccolta differenziale ma non soltanto le famiglie ma soprattutto le imprese perché se vogliamo creare lavoro dobbiamo rendere in condizione le imprese a far sì che riducano i propri costi per poter far sì che si possa avere l'opportunità e la possibilità di poter creare occupazione e se andiamo a pensare che in questi dieci anni la riduzione della tariffa rifiuti della tasse rifiuti è paradossale che sia diminuita del 4% del 10% scusate del 4% per le famiglie 4,8 diciamo 5% è aumentata del 10% le imprese è paradossale in dieci anni un lavoro del genere ma va benissimo che abbiamo migliorato che miglioriamo l'ambiente che siamo attenti all'ambiente ma noi dobbiamo pensare anche che comunque le imprese devono lavorare dobbiamo rendere il fatto dobbiamo far sì che questo lavoro che non è un nostro lavoro non è la pubblica amministrazione che fa bene la raccolta differenziata sono i nostri concittadini che fanno la raccolta differenziata noi se abbiamo raggiunto obiettivi buoni anche con il vecchio appalto significa che erano i nostri concittadini a fare il primo lavoro e che dire ci sono tante tante altre questioni che ci portano in maniera veramente tranquilla a dire che e a dare un parere negativo a questo rendiconto nel momento in cui nel momento in cui vediamo una spesa sociale così importante è vero non dobbiamo lasciare nessuno indietro e io sono altamente tutti quanti siamo d'accordo in questo ma questo dovrà farci pensare che se c'è una maggiore spesa a livello sociale in questo in tal senso significa che all'interno della nostra città ci sono reali problemi di occupazione faceva bene un consigliere prima a indicarlo e a comunicarlo a tutta l'assemblea l'ultimo articolo uscito in questi giorni se abbiamo una percentuale del 68% significa che c'è un problema è bellissimo però i fiori mi piacciono mi piace gli arredi urbani mi piace lo stile mi piace la voglia mi piace il calore che anche questa amministrazione spesso e volentieri dà ma non basta non basta io sono contentissimo a me piace tantissimo vedere tantissima gente qua su BRA mi piace tantissimo vedere flussino non ho paura a me fa piacere poi lì c'è un problema magari di salute io amo vedere miriade di persone a BRA perché mi rende fiero e orgoglioso ma sono consapevole che anche a questa amministrazione a questa giunta li rende orgogliosi e fieri ma non basta non basta perché BRA oltre a tutto ciò fa parte di un sistema e si sta parlando di dieci anni dieci anni significa che comunque in dieci anni non abbiamo risolto quello che è l'ospedale di Verduno non abbiamo minimamente risolto quello che sono le vie di comunicazione dell'ospedale di Verduno non abbiamo minimamente risolto la questione dell'asticuneo tanto per poi ritrovarci negli ultimi mesi a capire di metterci un cartello fuori dal comune e dire sì a sticuneo sono dieci anni che siamo qui quindi i problemi ce ne sono ce ne sono molti riteniamo e ne siamo consapevoli che questa amministrazione in buona parte e anche in alcuni settori ha fatto bene ma in tanti altri in tanti altri diciamo che è stata tanto fumo e poco arrosto grazie grazie consigliere Tripodi consigliere Gemma su quanto è stato detto in questi ultimi interventi dunque io sono consigliere comunale da 5 anni ed è stata un'esperienza elettricante e qui chiudo nello stesso tempo sono commerciante e da più di 15 anni faccio la referente di via la rete scusate del commercio del peccalore prima considerazione Alba Saluzzo e Cuneo sorgono alla fine di alcune balli valli collinari per Alba e valli montane per Saluzzo e Cuneo chi scende dalle valli si ferma prima di tutto in queste città e questo comporta un diverso flusso nella quotidianità del commercio noi abbiamo una collina alle spalle da noi non scende nessuno al massimo salgono da noi e questo è uno dei piccoli particolari cambia completamente il riferimento a come si muove il commercio penso che fare critiche che fare considerazioni è giusto ed è costruttivo però nello stesso tempo credo sia giusto anche considerare il contesto in cui noi stiamo amministrando un'altra cosa che vorrei sottolineare è che le riqualificazioni urbane sono un fiore all'occhiello non solo di tutte le città e in tante città dove da anni si è creato un flusso di commercio pedonale pensare di andare a proporre di riaprire le vie penso che veramente potrebbe insorgere qualche rivoluzione da parte dei commercianti via vittoria non è molto che è stata chiusa però posso dire perché ho partecipato a tutte veramente a tutte le riunioni fatte in ASCOM in collaborazione con il comune e l'ASCOM in cui si sono presentate tutte le nuove riqualificazioni anche quelle della periferia ai commercianti e durante queste riunioni cosa si è voluto sottolineare che se una via è più bella se una via è più agibile se una via viene lasciata libera libera dalle macchine libera dall'inquinamento dove si può camminare dove si si può fermare a guardare le vetrine è importantissima questa cosa per il commercio riuscire ad avere il tempo di fermarsi a guardare le vetrine inoltre un'altra cosa che non è stata ricordata è che durante le riqualificazioni delle vie commerciali di Bra i commercianti avevano delle forti agevolazioni per ristrutturare anche i loro negozi che poi qualcuno abbia voluto o non abbia voluto farlo bontà sua però erano delle forti agevolazioni e queste tutte queste cose sono state presentate in modo chiaro durante le miriadi di riunioni fatte in ASCOM un'altra cosa che adesso così mi viene in mente le volte che si sono chiamati esperti in comunicazione esperti in urbanistica commerciale ad aiutare a valutare come muoversi come interagire con il commercio con la città e tutto questo sempre con un'ottima collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'associazione dell'ASCOM quindi i commercianti non sono lasciati non sono stati lasciati al loro destino per quanto ho potuto vedere io e vi posso assicurare che di parole di proposte di progetti se ne sono fatte tantissime poi come tutte le cose dipende dal commerciante come ne vuole usufruire e come vuole adoperare quanto gli viene proposto però sinceramente dire che una zona pedonale danneggia il commercio vuol proprio dire che forse non abbiamo ancora ingranato bene la macchina ma non è certo perché la zona è pedonale io sono commerciante e combatto tutti i giorni contro tutto quello che può essere da noi non di meno l'ultima purtroppo moda di comprare su internet ma non per questo tutto il resto non si è fatto cioè non per questo non si è fatto niente in tutto il resto in tutto l'altro contesto in altri contesti poi volevo ancora fare un piccolo intervento per quanto riguarda la relazione di gestione come più volte ho detto in questi cinque anni a me piace far parlare i numeri perché i numeri non sono proprio la mia non ho questa abilità di gestire i bilanci però mi piace far parlare i numeri che è per conto mio perché questi numeri poi li vediamo in giro li vediamo concretizzarsi nella città che questi numeri descrivono descrivono un'attenzione meticolosa alle spese e alla coerenza di bilancio alla voglia di fare il bene comune la definizione è economia circolare che non è il titolo di una teoria espressa da sognatori è il sistema di amministrare una città coinvolgendo tutte le realtà sociali mettendole in relazione con il preciso intento di non lasciare indietro nessuno o nulla di intentato amministrare a tutto tondo diventando il perno con coraggio in anni di crisi dove l'economia mai del tutto è stata dove la crisi di economica mai del tutto è stata superata e mettendo al centro la famiglia il primo nucleo sociale un esempio è il nostro asilo nido come è già stato detto dove tutte le richieste si è cercato di soddisfare tutte le richieste con un servizio di eccellenza senza aumenti di tariffe continuando a mantenere attive e coordinate tutte le attività intraprese altro esempio è l'importante riqualificazione energetica delle scuole dell'infanzia Ginalagoria Montecatini cos'è di meglio pensare di avere in una città le scuole ristrutturate riqualificate dove i nostri bambini possono andare tranquillamente dove le maestre possono lavorare dove le mamme lasciano i bambini a scuola e possono andare a lavorare questo è importante io credo creare una buona una buona vivibilità allora io se ho il bambino a scuola se viene guardato il mio bambino posso andare a lavorare tranquilla questo è l'aiuto che chiedono le donne il poter andare a lavorare sapendo che i loro figli vivono una situazione buona poi tutti ci sono ricordiamo anche i servizi al sostegno all'emergenza abitativa la particolare attenzione a tutte le attività contro la povertà all'assistenza alle fasce più deboli gli anziani i minori le donne vite e medivolenza e i diversamente abili si sono attuati progetti contro la dispersione scolastica ed inclusione sociale aiutando i più giovani e riqualificando luoghi di incontro con un beneficio per tutta la città per tutta la collettività e poi vorrei ancora aggiungere una cosa che mi ha entusiasmato tantissimo in questi cinque anni il consiglio comunale dei ragazzi non sempre ho potuto partecipare ma quando ho assistito all'inizio o a piccoli momenti della vita di questo consiglio comunale dei ragazzi veramente vedere l'entusiasmo la voglia di partecipare la voglia di dare contributo agli adulti è stata una grandissima esperienza un'esperienza che mi ha dato anche a volte la carica la carica di continuare a impegnarmi per questa città impariamo dai nostri bambini i nostri bambini veramente ci danno la carica danno la carica a noi adulti di guardare la nostra città con altri occhi i nostri bambini chiedono di poter correre di poter andare a scuola in scuole belle i nostri bambini chiedono di avere giochi di avere di avere la possibilità di viverla la città di poter andare a passeggio con il cagnolino nella propria città quindi veramente chiudo questo mio intervento ringraziando tutti di avermi dato questa possibilità di vivere questi anni questi cinque anni così belli così intensi e ringrazio anche tutti i nuovi amici che ho incontrato nelle persone di tutto del personale del comune tutti tutti veramente è stata una bellissima esperienza grazie a tutti grazie a lei consigliere Gemma grazie a tutti a quanto pare non ci sono più interventi basta dire non ci sono più interventi perché ci sono interventi basta chiedere prego consigliere sommaglia rimangono non era per fare melina presidente e che ero incerto sull'intervenire o meno perché tante cose sono state dette l'abbiamo dette in cinque anni quindi questa sera però forse è giusto rimarcarle perché siamo alla fine di un percorso che è durato cinque anni ma è durato in realtà dieci anni tante cose sono già state dette non vorrei ripetermi ma brevemente e non entro tanto nel merito dei numeri che ci sono stati ben esposti dall'assessore Fogliato che è particolarmente bravo a gestire i numeri sia in commissione che questa sera ma questa sera c'è sì il rendiconto del 2018 ma soprattutto direi il rendiconto di cinque anni di amministrazione dove ancora una volta questa sera l'ho rimarcato in alcune riunioni alcune riunioni fra il consiglio comunale mi pare se fossi un un esterno alla nostra città che per la prima volta vengo in consiglio comunale che nel 2009 questa città qui fosse una città priva di incremento economico fosse una città dove non si svolgevano manifestazioni una città dove tutto era da fare da rifare non è stato detto da lei ma è stato detto allora mi ha fatto sorridere il fatto per esempio che un consigliere che mi ha preceduto ha detto non ho mai visto tanta gente così alla fiera di Pasquetta io ho quasi 54 anni non ricordo 53 perché ero piccolino ma sfido quiunque a dire che la fiera di Pasquetta anche nei tempi passati non fosse così tanto frequentata da braidesi non braidesi il del commercio è stato detto ed è vero l'amministrazione comunale può fare alcune cose qualcosa è stato fatto qualche anno fa ci è stata venduta la riqualificazione delle vie principi e via Vittorio e via Odisio come la panacea cioè ciò che poteva risolvere le criticità del commercio ma ahimè chiunque parli con dei commercianti che siano essi del centro cittadino che siano essi delle periferie a parte alcune categorie tipicità commerciali gli altri lamentano tutti lamentano tutti una situazione economica molto grave qualcuno qualche settimana fa mi diceva che nel centro cittadino ci sono 32 locali commerciali non occupati e me lo diceva un vecchio e prestigioso commerciante ebraidese allora questo questo fa riflettere c'è un turnover soprattutto nelle vie centrali ma se ci sono tanti locali così non occupati vuol dire che chi dovrebbe svolgere l'attività commerciale non viene ad investire nella nostra città è vero che bra e condivido ciò che diceva il consigliere che mi ha preceduto noi non siamo come dire la capitale o il fulcro di un centro come lo sono le valli non sono regalesi piuttosto che saluzzese piuttosto che alba la nostra vicina alba ma è altrettanto vero che forse non siamo stati capaci a catalizzare l'attenzione delle cittadine a noi più vicine perché anche dalle cittadine più vicine che erasco sommariva bosco che non trovano in bra quei servizi che vanno a ricercare ad alba direttamente per esempio da sommariva bosco molto nel carmagnolese e allora probabilmente c'è qualche carenza c'è anche carenza di alcuni servizi a bra negli ultimi anni abbiamo perso la sede dell'agenzia dell'entrata abbiamo perso la sede dell'inps e sentivo prima parlare anche della questione ospedale e sanità nei giorni scorsi sono andato a rivedermi i programmi elettorali sia del sindaco sia dei candidati che cinque anni fa hanno concorso le amministrative nel campo sanità si diceva che la giunta cotta aveva depauperato i servizi con la riduzione dei trasferimenti depauperato i servizi ma mi pare che l'intento di mantenere tutti i servizi presso il nostro ospedale nelle more dell'apertura dell'ospedale di Verduno tema che abbiamo sottolineato e sposato tutti mi pare che però negli ultimi cinque anni il nostro ospedale sia altro che stato depauperato di servizi ormai per quasi tutto dobbiamo recarci ad Alba per esempio o in altre città tralascio i lavori pubblici che sono stati realizzati negli anni ma qualche evidenza bisogna farla citavo prima il rifacimento per esempio di via principi abbiamo sempre detto in quest'aula e nelle commissioni che quella zona richiedeva una riqualificazione ma come abbiamo sottolineato più volte la riqualificazione è stata però fatta malamente non bene chiunque passeggi e anche chi viene a Bra dalle città vicine ok è vero che dice che Bra è una bella città ma dice anche che purtroppo quei portici sono ridotti in uno stato peggio di prima eccessivo a me non piace eccedere nelle cose ma sicuramente il materiale usato non era il materiale più confacente alla realizzazione di quel tipo di lavori era citato nel programma elettorale la convenzione per il maio di centro quella è stata in effetti qualche un anno fa circa sottoscritta con le ferrovie dello Stato però a oggi a oggi tentiamo ancora di capire e di sapere dall'amministrazione qual è e quale sarà l'effettivo utilizzo di quella struttura due parole devono essere anche dette su quello che è la situazione del traffico sono state realizzate delle ZTL sono state chiuse al traffico veicolare alcune vie del centro cittadino ma non sono state date alternative al flusso veicolare che è sotto gli occhi di tutti che soprattutto in alcune ore della giornata ma ormai quasi in tutta la giornata alcune zone della città sono sono intasate e mi ripeto per l'ennesima volta soprattutto la zona antistante alla stazione ferroviaria dove qualche soluzione deve essere adottata lo accenno solo all'interramento della stazione ferroviaria l'abbiamo detto in tutte le salse in questi anni il progetto ormai è nei cassetti di chissà che meandro non so cosa verrà realizzato secondo me mai ma bisogna avere l'onestà di dirlo e aggiungo ancora per quanto riguarda il discorso del traffico lo abbiamo già detto ma occorre ripeterlo anche in questa sede l'individuazione dell'ubblicazione della nuova scuola in via Trento Trieste a nostro avviso è un'ubblicazione sbagliata perché contribuirà a peggiorare la situazione del traffico mentre la proposta che abbiamo avanzato noi nelle settimane scorse in quest'aula ma anche nelle commissioni in quel sito lì potrebbe essere potrebbe trovare realizzazione un ampio parcheggio o delle aree verdi e quindi risolvere parzialmente la cronica mancanza di parcheggio cittadino che è uno dei motivi che molti da fuori contestano verso la possibilità di venire ad effettuare gli acquisti nei negozi del centro cittadino il tema dei rifiuti è stato è stato toccato è diventato severo che bisogna raggiungere ed è corretto raggiungere una certa percentuale di indifferenziata per quindi porre soluzione a problemi di stoccaggio nelle discariche eccetera 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 è altrettanto vero che c'è stato con c'è stato con il nuovo sistema un aggravio di di competenze diciamo da parte dei cittadini per poter smaltire al meglio la la produzione di rifiuti ci auguriamo ci auguriamo che sia una fase transitoria e che venga trovato soluzione al più breve leggevo sempre nel programma che per quanto riguarda l'ambiente lo abbiamo detto solo qualche settimana fa ormai le problematiche ambientali sono quasi scomparse dai media che si interessano della nostra città questo ci viene detto che la situazione è nettamente migliorata secondo noi uno dei motivi per cui migliorata perché lo spostamento delle centraline delle zone nevralgiche della città verso altre zone dove il problema è inferiore ha contribuito a far sì che gli sforamenti fossero inferiori rispetto al passato Bra doveva diventare una città in cui l'uso della bicicletta doveva essere importante ma così non mi pare che sia anzi non abbiamo neanche più memoria delle biciclette che erano state acquistate tempo fa le biciclette elettriche e la sostituzione veniva citato la sostituzione dei mezzi ad uso del comune con mezzi a trazione gpl o elettrica è vero che qualche settimana fa c'è stato l'acquisto grazie anche ai contributi determinanti della fondazione cassa di risparmio di cuneo di un mezzo ma un mezzo su tutto il parco auto in uso all'amministrazione mi pare veramente un po' poco ricordava l'assessore che e i tempi di pagamento della pubblica amministrazione sono notevolmente migliorati ne diamo atto noi avevamo sollicitato già dal 2015 che si ponesse mano a questa problematica affinché almeno in quel senso lì le aziende sperando che siano soprattutto aziende locali potessero trarre un beneficio o comunque avere un incasso se non immediato in tempi ristretti delle somme dovute dall'amministrazione ecco queste sono alcune delle considerazioni che volevo fare approfitto facendo già la dichiarazione di voto ovviamente per quanto riguarda il mio gruppo sarà un voto negativo che è conseguente anche al voto negativo sul bilancio di previsione 2018 e chiarendo che ovviamente non tutto è negativo ciò che è stato fatto da questa amministrazione negli ultimi cinque anni o meglio negli ultimi dieci anni probabilmente poteva essere fatto per alcuni versi meglio potevano esserci alcune iniziative che potevano meglio contribuire alla soluzione di problemi della nostra città grazie 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 a lei consigliere ho chiesto la parola all'assessore Cravero prego buonasera io volevo fare un breve intervento perché sono state citate da diverse voci quelle che sono delle impressioni delle opinioni rispetto al nuovo appalto rifiuti allora solo due precisazioni perché poi visto che l'assessore al bilancio questa sera ci ha dato dei numeri e su questo ci dobbiamo basare al di là di quella che può essere stata un po' così il trambusso iniziale per un doppio inizio che è stato quello dell'appalto del nuovo appalto con un cambio di contratto con quello che è un cambio di calendario con quello che è un cambio di passaggio un cambio di abitudini e l'introduzione di un contenitore mi piace chiamarlo così l'ho chiamato su tutte le risposte che ho dato personalmente sui social un contenitore per misurare l'indifferenziato queste sono state le due modifiche quello che mi piacerebbe precisare è il fatto che non è cambiato niente non è stato introdotto nessun sistema di raccolta differenziata non sono state chieste competenze aggiuntive ai cittadini perlomeno a coloro che rispettavano le regole la differenza Tabra è nata più di dieci anni fa e il 70% per il quale dobbiamo dire grazie ai cittadini che l'hanno sempre fatta ci dimostra proprio perché c'è questo 70% che le abitudini erano già state prese è chiaro che chi dopo dieci anni non era ancora riuscito a entrare nel meccanismo magari ha faticato un po' di più magari ha fatto un po' di rumore sperando che fosse anche fatta un po' di marcia indietro ma visto che appunto non è cambiato il sistema ma è cambiato il contenitore vuol dire che prima c'era una regola e adesso c'è un contenitore che misura quello che è legittimo produrre perché la tari sia una tariffa equa a ogni cittadino è legittimo produrre per legge un tot un volume i sacchi rossi i famosi sacchi rossi misurano questo volume ora non voglio entrare nel dettaglio ma voglio soltanto fare un ringraziamento personale perché dopo il primo mese in cui di voci ne sono alzate tante io ho visto che erano gli stessi cittadini virtuosi quelli che sono poi gli stessi che hanno portato le azioni di Coloriamo la città che sono quelli che su internet adesso stanno scrivendo agli altri cittadini guardate che non è così difficile perché non è non sono state inventate nuove abitudini sono proprio questi che in realtà hanno contribuito a far diventare bra la città bella di cui si parlava prima che la tengono pulita che se ne prendono cura che hanno a cuore il bene comune e per questi cittadini vi do un paio di dati che mi sono arrivati proprio oggi pomeriggio dal 2018 marzo attenzione siamo a due mesi dall'introduzione del sacco conforme abbiamo aumentato la differenziata del 23% eravamo a 70% e abbiamo diminuito l'indifferenziato del 50% non sono solo numeri e non sono soltanto buone abitudini sono anche denaro perché noi per ogni chilo di smaltimento di indifferenziato paghiamo e stando al quadro finanziario indifferenziato Cuba vicino al milione di euro sui 900 mila euro nel 2018 di conseguenza potete immaginare che se già a due mesi siamo a meno 50% dell'indifferenziato non stiamo parlando proprio di piccole cifre quindi rispetto a questa grande attenzione verso l'ambiente che nulla toglie a quella che è una propulsione di un'economia ma di un'economia diversa sostenibile e rispettosa io volevo fare una piccola postilla e per questo ringrazio grazie all'assessore Cravero grazie grazie ha chiesto la parola il sindaco prego soltanto per intervenire su alcuni aspetti perché l'intervento è stato molto ampio ho preso la spugna forse non ho ti sento lo stesso non ho gettato la spugna sappilo non ho gettato la spugna e io ab lo sappiamo perché allora intanto proseguendo sul ragionamento che ha fatto l'assessore Sara Cravero credo che sulla base di questo nell'arco dei prossimi due anni sia possibile ridurre in maniera sensibile la il costo della Tari io credo anche in una somma che può essere intorno al 10% tra nei due anni sulla base poi ovviamente i conti li deve fare sempre i conti devono sempre farli con il dottor Grillo perché ovviamente il fatto che sia diminuita la indifferenziata c'è maggiore plastica che viene spostata e quindi ci sono sicuramente dei conti ma c'è una certezza che l'impegno importante dei cittadini braidesi e la risposta importante dei cittadini braidesi avrà una contropartita questa è una certezza già quest'anno dove già quest'anno sulle bollette di quest'anno è possibile vederlo ma in futuro coniugheremo sicuramente ovviamente se i cittadini daranno a noi questo compito ma potranno farlo coloro che amministreranno la possibilità di diminuire la Tari sulla base di un minor costo della indifferenza rispetto al poi vado proprio a spot perché ci sono alcune questioni che mi hanno colpito e che allora intanto la città di Bra non ha perso l'Inps e l'agenzia delle entrate la città di Bra avrebbe come è successo in altre città potuto perdere totalmente questi uffici perché una riorganizzazione nazionale questo stabiliva e invece no con determinazione con l'Inps continua ad essere nei nostri locali l'agenzia delle entrate continua ad essere nei nostri locali e in questi giorni sono molto onorata che il presidente del tribunale mi abbia cercato per vedere se è possibile aprire su Bra il servizio di prossimità io mi auguro che questo sia possibile perché soprattutto per le famiglie che hanno delle difficoltà per gli avvocati che seguono magari queste pratiche ma per coloro che sono tutori eccetera io mi auguro e ho già dato la disponibilità come comune ad accettare questo servizio di prossimità come abbiamo fatto finché ci è stato possibile dal punto di vista economico la presenza della del giudice di pace c'è stato un momento in cui questa presenza voleva dire sostituirsi e il comune non può sostituirsi tra l'altro si pongono di problemi che hanno delle questioni che vanno di non correttezza contabile perché oltre un certo limite il comune non può fare ciò che deve fare un altro emite ma ci sono alcune questioni che sulle quali probabilmente o abbiamo vissuto in città diverse oppure è normale che nella ordinaria discussione ci sia siano anche dei confronti delle questioni che possono essere sfuggite piuttosto che non tenute presente quando viene detto che l'amministrazione non ha seguito nei tavoli di competenza le le vertenze relative alle aziende ricordo che a partire dal primo proprio nei primi 15 giorni di insediamento del 2009 ho seguito tutta la vicenda della Regine con tutte le la Nataroma eccetera eccetera abbiamo nel in un momento particolarmente delicato della vicenda Abet ci siamo sostituiti a quello che normalmente fa Confindustria e su un tavolo comune abbiamo scritto l'accordo tra le due parti al centro al polifunzionale con le due controparti e l'assessore Bailo che scriveva il testo del del documento di accordo tra le parti in questi giorni ogni giorno ogni giorno abbiamo seguito con molta attenzione le vicende relative sempre all'Abet però una cosa è quando sei richiesto di coinvolgere richiesto di partecipare ai tavoli un'altra situazione è quando a questi tavoli non sei richiesto e allora ti informi e assumi informazioni dall'una parte e dall'altra in una maniera assolutamente cercando di essere i più di parti sanno possibili e sapendo però anche schierarsi quando è necessario schierarsi rispetto a chi è più in difficoltrata tra le parti ma chiunque può a partire dall'amministratore delegato dell'Abet al sindacato possono testimoniare la nostra continua continua seguire l'evoluzione della vicenda come anche la delicata complessa questione della della fine contemporaneamente però qualcuno dice non un'azienda è arrivata sul nostro territorio ma non avete presente di un'azienda che era era è in questo momento a Santa Vittoria svolgere la sua posizione a Santa Vittoria l'area su cui svolgeva la piccola ha preso un terreno sul nostro territorio e questo terreno permette di moltiplicare per tre l'occupazione questa azienda si chiama Selmi l'abbiamo fatto in tempo da record l'ha dato la possibilità di raddoppio all'OMLERS l'arta industriale abbiamo fatto un consiglio comunale specifico in piena estate giustamente appena c'è l'opportunità e devo dire grazie ad un lavoro molto attento e molto puro nelle questioni burocratiche dei nostri uffici vi è stato un intervento di riqualificazione che ha messo a posto attraverso primo caso in Piemonte l'ex Faber con l'applicazione della legge 106 mi risulta che all'Abet si è stato costruito un capannone che ospiterà un ampliamento di attività uno spostamento di attività e potrei dirmi la Bracervizi ha avuto in tempi rapidissimi la Mosso che doveva partecipare al PSR abbiamo con grande velocità anche lì fatto un consiglio comunale apposito e ha accelerato i tempi perché potesse avere la possibilità di poter partecipare a questo bando ovviamente altre aziendine più piccole hanno chiesto piccoli ampliamenti cosette non mi risulta qualcuno ha detto che ci sono aziende che da 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 intendono spostarsi da altre parti questa queste persone non si sono presentate né presso gli uffici né presso sindaco perché avrebbero avuto ovviamente almeno la possibilità di trovare una soluzione sul nostro territorio d'altronde gli oneri di urbanizzazione per le attività produttive nella nostra città sono circa la metà di quello che si paga a a Cerasco per esempio e quindi già da questo punto di vista c'è un vantaggio ma poi abbiamo fatto una scelta e su questo non è stato legittimo e mi è anche piaciuto l'intervento di Guido Gaia non sempre sulle questioni si è si hanno le stesse opinioni questa amministrazione nei dieci anni non ha fatto piani commerciali di insediamento di grande distribuzione organizzata questo lo ha fatto perché è uno dei modi per poter tutelare il centro commerciale naturale poi è vero che magari la stessa azienda si sposta di tre chilometri e va nel comune vicino e rinunci all'investimento per cui sei molto turbato quando hai richieste di questo genere ma sono scelte che credo uno fa e fa con una certa coerenza se io dico che voglio che il mio centro commerciale sia vivace attivo eccetera cerco di riqualificarlo e di fare in modo che non aprano attività troppo ampie da poter fare concorrenza ai piccoli e poi in questi anni avranno aperto una quindicina almeno di attività dell'assomministrazione insomma di pubblici esercizi una quindicina di vario tipo di tipologie le più diverse e questo credo che sia legato al fatto che la nostra è una città nella quale per esempio i giovani vengono volentieri è una delle pochissime nelle quali grazie ad un accordo con i gestori abbiamo continuato e ringrazio ringrazio l'assessore Borrelli per il lavoro fatto soprattutto lo scorso anno rispetto al fatto del mantenimento di aperitivi in console facendo in modo che quello che è un'attività che ovunque o non decolla o chiude qui è presente è governata è tenuta sotto controllo e questo avviene perché c'è un accordo un lavoro fatto insieme agli operatori insieme all'ASCOM credo con una produzione di attirare persone che arrivano per otto sere da molte parti che lasciano sul nostro territorio delle questo vuol dire lavoro vuol dire economia vuol dire possibilità vuol dire che la nostra città è una città che ha i giovani piace perché poi con aperitivi in console finisce ma continua l'attività continua e le opportunità nel rispetto nel rispetto delle norme nel rispetto degli orari nel rispetto delle acustiche di tutte le problematiche che ci sono perché credo che sia importante questa è una città che in questi anni ha visto per esempio un'associazione importante come Slow Food passare da 100 a 150 dipendenti sono 50 dipendenti che in parte vivono in città in parte in questa città vengono unicamente per lavorare ma passano qui fanno acquisti eccetera questa è una città nella quale abbiamo 500 ragazzi che frequentano l'università di Pollenzo che hanno che per una parte ritornano a casa loro alla sera ma per una parte è consistente affittano dei locali vanno nei negozi a fare acquisti vanno nei vari locali hanno i loro genitori che vengono a trovarli e vengono a far loro visita e scoprono che esiste una realtà fantastica che a loro piace piccola di una città piccola normalmente le università sono in grandi città scoprono una realtà molto bella come quella di di Pollenzo che non venitemi a dire che non sia stata riqualificata ovviamente aveva già avuto interventi precedenti molto importanti ma credo che qualche piccolo segnale questa amministrazione è stata in grado di darla ebbene ce ne sono ancora molte cose da fare molte perché un'amministrazione non si chiude in se stessa e sarebbe troppo presuntuoso dire che abbiamo fatto tutto e abbiamo fatto tutto bene abbiamo fatto tutto quello che ci è stato reso possibile nelle condizioni date in questi anni complessi con i fondi di cui disponevamo al tempo stesso con un'attenzione al nostro commercio locale facendo lavoro sulle filiere sulle eccellenze eccetera eccetera utilizzando prima di tutto noi i prodotti locali per la nostra mensa noi siamo clienti di aziende del territorio per 1800 persone che per cui vengono preparati i pasti cinque giorni alla settimana quindi queste scelte ovviamente sono tutte migliorabili tutte ambiabili e poi potrei dirvi dei parcheggi che abbiamo creato per quanto riguarda la questione del traffico del numero di semafori che abbiamo chiuso e abbiamo spento e che hanno reso più agile la città della qualità dell'aria che è migliorata molto può ancora essere fatto quello quello che però non può essere non riconosciuto è l'impegno forte duro determinato a cercare ogni occasione per fare in modo che questa città cresca ogni occasione chiunque qualsiasi operatore qualsiasi tecnico di questa città potrà dire che siamo lunghi burocratici tutto quello che vuole ma non che a fronte di una richiesta il sindaco piuttosto che gli assessori ma il sindaco perché sono questioni di urbanistica non abbia dato immediata risposta e per quanto riguarda i servizi una battaglia durissima per fare in modo che nessuno di questi servizi venisse spostato da nostra città altre città hanno rinunciato e i servizi sono chiusi grazie al sindaco signor Marengo prego chi ha già parlato una volta ha ancora diritto al massimo dieci minuti la prima volta e poi eventuale dichiarazione di voto per la terza volta grazie presidente ma sentivo adesso le parole di chi mi ha preceduto ed eventualmente evidentemente sposo la frase che abbiamo vissuto in città diverse ma probabilmente abbiamo anche partecipato a una riunione diversa questa sera perché nel mio intervento precedente io non ho parlato di un'amministrazione che è stata tenuta all'oscuro un'amministrazione che non ha partecipato io ho parlato di un'amministrazione che nel tavolo nei tavoli dove importava davvero la presenza dell'amministrazione ha avuto poco da dire si citava l'Abet ma un sindaco deve aspettare un invito quando c'è una crisi aziendale come quella che abbiamo vissuto alcuni anni fa dobbiamo aspettare un invito il sindaco deve quasi imporre la propria presenza deve telefonare tutti i giorni all'amministratore delegato stavamo parlando di più di quasi cento posti che inizialmente dovevano essere persi qui su Brano io fossi stato il sindaco di questa città non avrei dormito la notte avrei chiamato mattina e sera l'amministratore delegato per essere informato e per invitarlo dei tavoli ricordo che in una conferenza dei capigruppo si disse invitiamo l'amministratore delegato sentiamo la sua versione non soltanto non soltanto eh sì assessore Fogliato la penso esattamente così se lei sarà sindaco in futuro se lei sarà sindaco in futuro questa cosa dovrà tenerne conto glielo dico davvero da braidese noi dobbiamo avere un sindaco che è presente che è sul pezzo su ogni tavolo in cui esistono delle criticità questo è sul sindaco sì spero spero che non ci siano più crisi in futuro e spero che chi sarà il futuro sindaco possa però affrontare eventualmente una crisi in maniera diversa rischiavamo di perdere cento posti di lavoro e abbiamo sentito che cosa due conferenze dei capigruppo in cui addirittura c'era in viva voce un sindacalista una volta ci è stato riferito di un incontro con l'amministratore delegato e basta questo è stato l'approccio a una crisi che metteva a rischio cento posti di lavoro forse la vediamo diversamente sindaco forse la vediamo diversamente io credo che si dovesse e si debba sempre essere non soltanto sul pezzo ma presenti e imporre alle parti sociali parti datoriali e sindacato la propria presenza l'amministrazione non può essere informata a cose avvenute questo è il mio punto di vista e continuerò a esserne convinto di questa cosa il centro commerciale naturale si attiva certo che lo vogliamo tutti e per carità ben venga l'apertura di alcune attività di somministrazione di bevande di bar e di locali che hanno aperto ma abbiamo idea di quanti negozi hanno chiuso in brano abbiamo idea di quanto turn over in un negozio c'è stato in questi anni ma guardate che il senso del mio intervento se l'aveste capito non era quello di additare delle colpe a questa amministrazione quello che io dico è che questa amministrazione non ha fatto abbastanza dal punto di vista del lavoro di portare nuove aziende io non ho sentito da parte del sindaco un solo esempio di nuova azienda che è venuta ad aprire a bra la Semi è qua vicino e si è amplia ma quale azienda nuova è venuta a Amplia quale azienda nuova quale azienda nuova e qui erano quattro passi io sto parlando di aziende nuove che vengano aprire sul territorio e portino l'infa nuova assunzioni nuove chiederei per cortesia soltanto di abbassare di mezzo tono io abbasso di mezzo tono però presidente non possono anche essere interrotto ogni 30 secondi durante l'intervento assolutamente no però l'abbassare di mezzo tono aiuta magari anche non essere interrotto grazie detto questo detto questo l'ho riconosciuto prima abbiamo nelle commissioni urbanistiche poi in consiglio tutti dato il nostro contributo affinché le aziende che avevano chiesto un ampliamento e sono stati fatti degli esempi abbiamo dato tutto il contributo chi dice di no a questo ma io in tutto questo ragionamento non vedo il senso del mio ragionamento precedente e cioè quante attività produttive abbiamo portato Brian non 5 ma 10 anni ben sapendo che non è un qualcosa un fenomeno che si crea dall'oggi al domani ma una volta dato l'input i risultati si vedono nel periodo medio-lungo sentendo le parole di chi mi ha preceduto mi è sembrato di vivere veramente una situazione un po' caftiana vogliamo davvero dire che i cheese che si tiene ogni due anni o gli aperitivi in console che riguardano pochi venerdì durante l'anno possono cambiare anche il senso dei guadagni giusti dei locali di Brann dovremmo avere una visione più ampia noi quei locali dovremmo vedere riempiti sempre non soltanto quando c'è l'evento quando c'è la manifestazione ma proprio per anticipare il discorso che infatti sapevo di essere frainteso ho detto nel mio precedente intervento guardate che un'amministrazione non può creare lavoro ma ci possono essere delle condizioni per cui creando lavoro si mette denaro e liquidità fresca e questo denaro e questa liquidità vanno a creare un circolo virtuoso nei locali nei centri commerciali nei negozi del centro nelle attività artigianali si deve creare un circolo virtuoso io questo da parte di questa amministrazione in questi dieci anni e soprattutto negli ultimi cinque anni in cui sono stato in questo consiglio non l'ho visto non l'ho visto lasciatemi dire due battute non sono interventi che ho fatto io ma il fatto che si siano creati parcheggi a bra è tutto da vedere devo dire che è proprio questa una delle richieste che i commercianti di bra ci fanno nei momenti in cui ci confrontiamo con loro cioè il fatto che lamentano il fatto di aver perso posti di parcheggi per cui i loro clienti si trovano in difficoltà e non possono entrare nei loro negozi mi fa piacere però che il sindaco abbia preso un impegno per la prossima amministrazione per quanto riguarda la Tari se è il 10% quello che ipoteticamente si potrà scontare ai braidesi in futuro però sentendo anche quelle che sono i dati dell'assessore Cravero il 10% mi sembra davvero una cifra minima noi oggi a quest'anno abbiamo avuto una riduzione del 4,66 a fronte comunque di un disagio provocato ai braidesi benissimo le vedremo le promesse certe intanto i nostri i nostri quartieri di periferia e le rive sono pieni di sacchi di immondizia accettati così e così va bene so che vi dà fastidio lasciamo perdere non avrei non avrei neanche toccato l'argomento non avrei neanche toccato l'argomento ma va bene così so che vi dà fastidio e va bene così va bene così tutte le cose non perdono si va bene le foto che girano sono messe ad arte presa da altre città e messe qui va bene arrivo alla conclusione presidente detto questo proprio per le risposte che ho sentito il senso di negatività riguardo al provvedimento da votare questa sera non fa che aumentare e non mi fa capire che le risposte che sono state date sono risposte che non colgono il senso del problema proprio perché non si può imputare un'amministrazione alla creazione di posti di lavoro ma si può chiedere un'amministrazione di mettere aziende nelle condizioni di venire ad aprire a Bra e di creare posti di lavoro a Bra noi non abbiamo bisogno che venga ad aprire una nuova Fiat noi abbiamo bisogno che vengano 10-15 piccole aziende artigianali da 10-15 dipendenti l'una potremmo creare 100-150 posti di lavoro così questo è secondo me la missione oggi di un sindaco non è più soltanto l'asfaltatura delle strade non è soltanto più mettere dei fiori in Bra è portare lavoro a Bra creare le condizioni perché aziende vengano ad aprire evidentemente la pensiamo in maniera diversa ragioniamo in maniera diversa abbiamo delle soluzioni diverse spero che i braidesi il 26 di maggio possano capire quali sono le soluzioni da una parte e quali le soluzioni dall'altra grazie grazie a lei prego allora io posso accettare posizioni diverse confronto discussioni visioni diverse ma non posso accettare che lei mi dica che questa amministrazione che Bruna Sibille non si è occupata dell'Abet e dei cento dipendenti dell'Abet la sera stessa che si è avuto notizia di questa della della vicenda Abet ho sentito il sindacato mi sono accordata per parlare il mattino successivo con la amministrazione delegato e da quella data praticamente con continuità con continuità ho seguito andando davanti all'azienda svolgendo anche una funzione che credo sia stata molto apprezzata da tutte e due le parti la presenza di tutta la giunta davanti all'azienda perché ci rendevamo conto esattamente della portata di questa situazione e quindi mi dispiace su tante altre questioni possiamo avere visioni diverse modi diversi ma non mi dia lezione su come bisogna avere i rapporti con le aziende nei momenti di crisi perché dall'occupazione della CMB in avanti credo di avere dall'occupazione della CMB in avanti credo di avere o il tono di voce troppo alto credo di avere di non avere bisogno di avere lezioni ho imparato molte cose e ho imparato soprattutto ad avere rapporti con l'aspetto datoriale e con i sindacati mi scusi se su questo abbiamo posizioni diverse dovevo però dirglielo per questioni di dignità personale e per questioni di impegno serio che mantengo ogni giorno insieme ai miei assessori rispetto alle problematiche del lavoro in questa città grazie sindaco consigliere Milazzo prego il mio secondo intervento ma tanto io non voglio ribadire nulla sono quello che dirò adesso perché sono pienamente cosciente che hanno risposto bene a iniziare dalla consigliera della consigliera Gemma sul commercio poi Sara Cravero è il nostro sindaco ma c'è un punto su cui nessuno di loro neanche il nostro sindaco probabilmente perché le questioni più importanti del lavoro hanno forse superato questo semplicemente non è venuto in mente ed è quella dell'ospedale allora io vorrei dire che il nostro sindaco quando ha iniziato col fatto di chiudere già la maternità avrebbe dovuto solo più fare 20 figli lei perché per il resto ha fatto di tutto di tutto quindi no perché noi dobbiamo tenere presente una cosa questo è un esempio quello della maternità perché iniziato tutto da lì poi pian pianino tutto il resto dobbiamo tenere presente che ci sono degli indici nazionali per ottenere certi servizi per avere un buon servizio perché un buon servizio non è solo un contenitore non è solo un muro dove uno pensi di andare tutto finisce lì un buon servizio è fatto dalla presenza di un certo numero di operatori è fatto dalla presenza di un certo numero di strumentazioni un buon servizio è fatto dal numero di interventi che vengono fatti allora io personalmente dato che magari nella vita sono operata di cancro una volta sola preferisco andare a farmi operare di cancro anche in un'altra struttura dove però c'è anche la rianimazione che noi in una struttura dove non ci sia per quanto possa mettere la mia mano la mia vita nelle mani di persone che a stimo e ammiro ma se non c'è tutto il resto non è possibile e in tutto questo resto io dico che sono importanti gli indici per il buon funzionamento per avere una buona sanità questi indici non li determina il sindaco di Bra non li determina la giunta attuale non li determinerà neanche il prossimo sindaco chiunque sia sono nazionali e sono dati dal ministero della sanità in base anche all'organizzazione mondiale e tutto il resto quindi noi cerchiamo di semplificare sempre tutto come se tutto fosse così banalizzabile questo per quanto riguarda comunque il fatto che uno sospedale è vero che poco per volta ha perso ma non l'ha perso perché il sindaco non si è dato abbastanza da fare o la giunta non si è imposta vorrei solo che riflettessimo un pochino di più io non so stasera ce l'ho questa parola riflettessimo però forse se riflettessimo effettivamente un po' di più eviteremmo anche di fare moltissimi interventi e l'altra cosa invece che vorrei dire sul a proposito un'aggiunta piccolissima all'intervento dell'assessore Cravero che è questa quando avevo 15 anni andavo già a pulire le scarpate attorno a Bra e trovavamo già di tutto quando avevo 20 anni ho continuato a farla l'anno scorso dopo la laurea ho continuato a farlo con quella cinta di Pullenzo quindi le porcherie buttate lì sono date dalle maleducazioni forse una cosa si può imputare quello di non avere abbastanza magari ancora come dire non interferito perché non è la parola corretta non avere abbastanza agito a livello culturale sulla popolazione forse dobbiamo impegnarci un pochino di più su quello cioè questo per dire che non è che un problema di adesso quello delle scarpate piene di o delle tangenziali piene di pocherie tra l'altro l'ho trovata anche davanti a casa mia potrei dire che forse qualche d'uno che ce l'aveva proprio con me non so proprio un bel sacchetto ho fatto anche la foto l'ho mandata all'assessore Cravero dicendo davanti a casa mia ho trovato e non sono in periferia sono in via ospedale si è stato poi rimosso ma non perché ho telefonato perché giustamente quando si fanno questa segnalazione chiunque sia il servizio va a rimuovere ecco tutto qui volevo solo precisare questo per cui sul sul resto mi sembra che sia stato detto abbondantemente d'altronde non c'è più sordo di chi non vuole sentire quindi buono grazie consigliere Milazzo prego consigliere Gaia ma siccome sono un consigliere che non si presentava più quindi diciamo che diciamo che è l'ultima occasione vorrei che si tranquillizzasse signor Sindaco sappiamo quel che lei ha fatto per il lavoro per l'ABET eccetera per questi operai quindi a tutta la nostra solidarietà sappiamo anche che che in qualsiasi momento in questi dieci anni e lo dico per quel che riguarda il mio campo ci sia stato bisogno di affrontare un problema di insediamento di un'azienda di un qualcuno artigiano che avesse l'unione di qualcosa è sempre stata la sua totale disponibilità ma penso che sia la disponibilità di qualsiasi sindaco anche di quelli che erano sindaci passati perché nessuno nessuno rifiuterebbe o cercherebbe o cercherebbe di intracciare o non tesse la sua massima disponibilità nel momento in cui qualcuno viene da lei e le dice vorrei insediare vorrei fare un capannone insediare un'attività ma quale sindaco ma quale sindaco direbbe direbbe no o non si non fosse disponibile quindi guardi veramente glielo dico col cuore ritengo che lei abbia fatto di tutto e di più grazie grazie consigliere Gaia consigliere Panero prego grazie presidente io a diversità di tutti mi ero impegnato a non intervenire stasera forse per non commuovermi per non fare qualche qualche saluto perché ammetto che cinque anni come sindaco sono volati e le ho fatti veramente in maniera intensa e non so per quale ragione perché non lo credevo ma stasera sono particolarmente emozionato in questo che comunque è l'ultimo consiglio di questi cinque anni però per quanto possa essere in queste condizioni io probabilmente veramente ho vissuto allora specialmente per quanto riguarda l'aspetto imprese ditte urbanistica cinque anni diversi probabilmente io avevo dei canali diversi avevo una visione diversa avevo dei rapporti diversi perché sentire dire questa sera che dal punto di vista urbanistico tanto in questa città si è fatto veramente non lo posso accettare non lo posso accettare dopo anni anni che chiedevamo dalle cose più banali mi viene in mente adesso non ricordo bene l'anno ma la prima interrogazione che abbiamo fatto per la digitalizzazione dell'archivio urbanistico sottolineando la grande difficoltà che ancora ad oggi c'è per fare una cosa semplice basilare che in altri comuni visto che il sindaco prende esempio in altri comuni lo fanno in un giorno a costo zero in altri costa di più è vero ma comunque con molta più semplicità in quasi tutti i comuni che io frequento e non in quello di Brano e questo in seguito a quella interrogazione niente è stato fatto se non da questa amministrazione per aiutare se non un grande impegno dell'ufficio che da soli autonomamente quando riescono perché ovviamente già oberati e oberate di lavoro riescono a scansionare qualche pratica per riuscire a caricare sull'archivio digitale probabilmente solo io ho passato ore sul tavolo urbanistico sull'ufficio con dei libroni in mano perché una volta che si entra su un programma che fa una certa parte una certa epoca poi si cerca di passare su un altro che fa una certa altra epoca e poi quando non si è trovato nulla o non si è soddisfatti ti vengono lasciati dei libroni che sono per fine e per fine ad un certo punto emozionante perché trovi cose scritte quando io neanche ero ancora nato quindi a mano con molta cura che però per quello che erano le possibilità del tempo magari la via è cambiata i dati catastali sono cambiati quindi questa ricerca porta via ore 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 all'ufficio al libro professionale professionista quindi ore vuol dire tempo vuol dire denaro per la pubblica amministrazione per il libro professionista di conseguenza per il cliente sentire a dire che in questi 5 anni io metterei 10 se non stati fatti passi avanti non lo posso proprio non lo potevo proprio non lo posso accettare a parte la questione delle tariffe adesso probabilmente mi andrò a formare meglio ma per quanto mi riguarda il comune di Cherasco visto che il sindaco ha citato il comune di Cherasco 5 euro a 07 al metro cubo per le primarie 6,89 per le secondarie per un totale di 11,96 il comune di Bra 8,97 al metro cubo per le primarie 10,67 al metro cubo fa 19,64 ma che 19,64 sia più basso di 11,96 lasciamo perdere le monetizzazioni ma non è questo non è questo il concetto probabilmente scappa un passaggio ci sono delle delibere apposta specifiche che sgravano questo è residenziale lasciamo perdere andiamo magari al produttivo che era più l'argomento che le vanno a ridurre specifiche che avrà non ci sono che avrà non ci sono probabilmente solo io sono stato molto sfortunato perché ho sempre avuto che fare con ditte imprese artigiani che lamentavano una difficoltà nel riuscire a ottenere io non ho parlato di un dialogo col sindaco non parlo di un dialogo con il sindaco nessuno ha lamentato difficoltà a parlare con questo sindaco che io ritengo da questo punto di vista per me un esempio ed è quello di presenza all'interno dell'ufficio comunale dal mattino alla sera questo glielo riconosco perché bisogna essere assolutamente obiettivi onesti e corretti e quindi questo non è un richiamo al fatto che il sindaco non sia io credo che poi è stato ben detto anche da chi mi ha preceduto ma quale sindaco suicida si negherebbe o quale sindaco non vorrebbe questo siamo arrivati dopo cinque anni nel penultimo consiglio comunale a fare una delibera urbanistica di indirizzo dopo che dopo tante tanto tempo dopo tanti incontri con tanti tecnici trasversali se mi passate il termine perché assolutamente trasversali non è mai stato fatto nessuno di questi incontri una questione politica di nessun tipo perché in questo caso la politica non c'entra e non c'entrava e spero non c'entrerà ma esclusivamente una richiesta passatemi il termine addirittura di aiuto perché chi di noi non può dire che ci sono delle ci sono delle norme ci sono delle degli articoli del nostro regolamento dei vari nostri regolamenti che rendono difficile fare delle cose che in altri comuni per continuare a parlare di esempi si riescono a fare delle norme che basta veramente sedersi intorno a un tavolo in maniera costruttiva per cercare di renderle di renderle più semplici mi viene in mente in centro storico se togli l'ultima soletta questo fa un incremento di volume allora questo non si può fare ma io mi chiedo all'interno di un centro storico assolutamente i fabbricati per quanto riguardano il loro contorno l'esterno i serramenti devono rimanere tutelati il più possibile e ci mancherebbe altro quello che è l'aspetto esterno deve rimanere perché stiamo parlando del centro della nostra città stiamo parlando del fiore agli occhiello di alcuni di questi fabbricati giustamente vincolati ma per quello che è l'interno per quello che è togliere una soletta che potrebbe permettere di avere un'altezza sufficiente per fare dei sopparchi per quello che può essere spostare delle solette internamente senza che esternamente si possa neanche vedere la differenza possa aiutare ad avere delle alte tutte queste piccole cose possono far sì che dei fabbricati all'interno dell'urbanistica braidese vecchi fabbricati possono essere recuperati ristrutturati così andiamo incontro a quello che è penso l'idea di tutti di non consumare più il suolo di lasciare il suolo libero peraltro questo in questi cinque anni e contradditemi pure non è stato fatto è stata fatta una delibera di indirizzo l'ultimo consiglio dopo cinque anni dopo cinque anni che un settore chiedeva chiedeva questo questi sono alcuni esempi ma io visto che non nascondiamoci ma io poi in sede privata visto che pubblicamente non mi sembra opportuno e la invito anche a venire con me signor sindaco sono io che porto questo esempio e privatamente le chiederò anche di venire con me a incontrare questa ditta che mi piange il cuore sono sono secondo me più di trent'anni perché era già il padre che aveva questa azienda sul territorio ebraidese e adesso da qui a poco si sposteranno le sue parole non sono le mie e possono esserle riferite direttamente perché non c'è nessun problema in un altro comune di Mitrofo hanno trovato condizioni migliori punto questo è quello che mi fa piangere il cuore questo è quello che da braidese mi fa veramente dire no questo non voglio e non deve succedere le condizioni nella mia città nella nostra città devono essere le migliori di tutte perché solo in questo modo solo in questo modo si può soprattutto mantenere già le imprese esistenti ma soprattutto e ripeto soprattutto cercare di incentivare quelle che sono gli nuovi insediamenti già così difficili in un momento così complicato è vero sono state fatte delle varianti al piano regolatore per aiutare delle ditte e qui deve essere anche riconosciuto che come opposizione ogni qualvolta in questi cinque anni sono state fatte delle delibere che ritenevamo costruttive a 360 gradi su qualsiasi aspetto della città sono sempre state votate dal nostro gruppo non abbiamo mai fatto una questione di che non bisognerebbe mai fare secondo me pregiudizio arrivano dalla no non diamo no assolutamente no l'abbiamo votate l'abbiamo sempre sostenute e non so perché stasera siamo un po' malinconici cosa ci riserverà al futuro ma sarà così sempre perché tutto quello che è positivo per la nostra città non lo sosterremo qualsiasi sia il nostro ruolo da qui al futuro questo è l'aspetto in un argomento così ampio che ci tenevo a sottolineare ed era appunto cercare di far capire che quello che interessa è ognuno per i propri ruoli per le proprie possibilità per i propri meriti per le proprie capacità riuscire a far diventare più bella questa città farla crescere farla crescere in ogni suo aspetto altrimenti penso che nessuno di noi dopo una giornata di lavoro abbiamo passato consigli comunali dalle 4 del pomeriggio a luna di notte l'abbiamo fatto veramente con la consepolezza e con l'orgoglio di dire stiamo cercando di costruire una bravigliore e questo è il nostro obiettivo di adesso e del futuro grazie grazie al consigliere consigliere Ferrero prego ma molto brevemente non sono intervenuto all'inizio quando quel clima se vogliamo un po' mieloso che c'era avrebbe potuto far pensare ad un un andamento di un consiglio che potesse terminare con un certo fair play e quindi non sono intervenuto perché non pensavo già da quel momento che così potesse essere sono stato facile profeta e dagli ultimi interventi ho capito che non ho capito l'avevo già capito prima che sicuramente sarebbero stati interventi che poco centravano con la discussione dell'ultimo punto dell'ordine del giorno ma che bensì si sarebbero allargati ad altri elementi di piena campagna elettorale così ho l'impressione che sia che sia stato l'ultimo però quello che veramente mi ha dato un certo fastidio è stato l'attacco al sindaco sulla questione dei suoi non mancati interventi nei momenti di crisi aziendale con particolare riferimento alla questione Abed io sono testimone di quelle cose e anche chi ha detto quelle frasi era testimone perché è sempre presente e la domanda che pongo è ma vi ricordate quante conferenze capigruppo urgenti abbiamo fatto con preanviso di poche ore affinché il sindaco ci aggiornasse in presa diretta sull'evolversi della situazione sullo stato di fatto di cosa stava succedendo delle telefonate che lei alla sera faceva al responsabile dell'azienda e il giorno dopo convocava conferenza capigruppo per dirci le cose come stavano perché questo attacco così che io ritengo volutamente cattivo perché non è così e quando si dicono delle cose che non sono vere bisogna bisogna dire che non sono vere perché il sindaco si è comportato in maniera completamente diversa da quando da quanto qui è stato affermato poi ho visto che gli interventi praticamente si sono concentrati su tre elementi di pura campagna elettorale rifiuti passaggi livello scuola ma sempre lì e in questo momento ci sta ci sta però poi il consigliere Gaia mi ha detto ha detto e mi ha detto è l'ultimo è l'ultimo intervento che posso fare ha detto lui e io lo prendo come come l'avesse voluto dire a me e anche per me l'ultimo intervento lo dico lo dico ufficialmente anche se per il tempo fino a domani ancora però ufficialmente lo dico lo dico tranquillamente e dico che sono orgoglioso di aver vissuto questi dieci anni e di diverse cose che credo anche di aver contribuito in qualche modo nelle mie modeste possibilità capacità a portare avanti e su questi argomenti toccati uno l'assessore ha detto chiaramente come stanno sulle altre due avendole vissute di prima persona avendo collaborato col sindaco per anni e anni mi corre quasi l'obbligo per l'ennesima volta ripetendo purtroppo le stesse cose che però poi chi non le vuole sentire o le vuole girare ha tutto buon gioco di farlo sulla questione passaggio livello non era e non è una questione da campagna elettorale perché se l'avessimo detto solo noi qualcuno poteva pensare che così fosse ma siccome altri molti più molto più esperti di noi in interventi urbanistici interventi ferroviari interventi di liabilità molto più esperti di noi hanno detto nel 2005 vado molto indietro 2005 RFI presenta un progetto che diceva già allora esattamente queste cose e diceva già allora buonanima purtroppo è già mancato al direttore di allora che la migliore soluzione di questo problema era quello dell'interamento dei binari perché rispondeva a due questioni uno ovviamente il primo quella dell'evinabilità che avrebbe finalmente tolto questo ostacolo l'altro perché avrebbe assunto una valenza di riqualificazione urbanistica eccezionale con la ricocitura della cesura di Bra che durava da quando hanno costruito nel 1855 la ferrovia questo l'ha detto e ha presentato un progetto già allora con tanto di grafico che diceva esattamente quello che abbiamo sempre sostenuto con al fondo già anche un preventivo di spesa che già allora indicava con una spesa di 68 milioni 68 milioni 2005 2007 giunta Simone contributo della fondazione 300 mila euro chiede a tre professionisti a tre professionisti locali dei quali uno presente in questa in questo consiglio di fare un altro studio di fattibilità per la soluzione di questo problema ed erano l'ingegner Peisino l'ingegner Lovizzolo e l'ingegner Gaia la soluzione prospettata allora era esattamente quella ancora esattamente quella in quel momento erano studi di fattibilità quindi non prevedeva non prevedeva non prevedeva l'indicazione dell'importo ancora 2012 comincia con il finanziamento regionale comincia uno studio vero fatto tramite una gara internazionale al quale hanno partecipato ditta anche estere vinta dalla società Italper che ha progettato la soluzione per questo problema ancora esattamente quella scrivendo che la ritenevano la migliore che si potesse fare quindi non erano fisime di qualcuno o qualcuno che vendesse qualcosa in campagna elettorale erano fiordi professionisti che dicevano la loro poi ancora nel 2015 è stato un ridimensionamento di quel progetto passando da quattro binari interrati a due e ancora la soluzione è sempre quella con un importo di 48 milioni bene dico qui tranquillamente ma senza nessun patima d'animo le abbiamo provate tutte a cercare questi finanziamenti le abbiamo provate tutte col sindaco in tutte le sedi a oggi non ci siamo riusciti e per quanto mi riguarda non parteciperò più ad altre ricerche però anche sollecitato dalle parecchie volte da esponenti della minoranza che ci dicevano ma è possibile che ciate così così inesperti da non pensare che ad una soluzione di questo livello non ci possa essere una qualche altra soluzione di ripiego un qualche piano B ci diceva un buon generale deve avere una strategia che preveda sempre un piano B anche lì ce l'abbiamo provata non pensiate che detto questo allora che la migliore la ritenevamo interamento non ci sia più pensata l'altro abbiamo sollecitato più e più volte ferrovie di Torino ma fate voi anche un'altra proposta anche diversa che costi di meno beh anche questi ci hanno provato hanno sbattuto anche loro la testa e qualche idea che avevano era talmente brutta e impresentabile a questa città che gli abbiamo detto per piacere lasciate perdere e con un costo con un costo anche notevole abbiamo preso bene in considerazione quella che sono state quella che è stata la proposta di un'associazione privata che prevedeva un sottopasso viaglio non che si sia non abbiamo guardato nient'altro proposto in associazione privata l'abbiamo presa l'abbiamo portata all'RFI chiedendo diteci per favore diteci è fattibile questa e se si quanti costi ha perché questi dopo aver presentato un foglio di carta hanno mai scritto vicino a quanta montasse l'importo se non sbaglierandolo come se fosse meno di un decimo in occasioni pubbliche non hanno mai scritto beh ferro via le risposte ne hanno date due non è fattibile tecnicamente io riporto le cose dette testimone il sindaco non è fattibile tecnicamente in quanto le rampe di risalita avrebbero un'ascesa tale che non si rendono possibile e all'inizio questa proposta presentata avrebbe occupato tre dei binari attuali che ferrovie dicono non possiamo perdere questi tre binari quindi vedete l'abbiamo approfondita molto anche questa situazione di questa soluzione e al momento non abbiamo trovato altro questo non vuol dire che la partita debba essere possa essere chiusa e anche perché queste soluzioni presentate come sottopasso dal costo molto basso non avrebbe in alcun modo risolto il problema dei pedoni quello che noi sovente dimentichiamo quando facciamo questo ragionamento parliamo dell'eliminazione del passaggio livello affinché si migliori la viabilità delle auto dei mezzi ma noi ogni volta che c'è passaggio la chiuso vediamo decine 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 di persone alla ferme che aspettano di attraversare pur avendo a disposizione un sottopasso pedonale un interramento un passaggio in sottopasso vorrebbe dire che questo non c'è più e quindi i pedoni dovrebbero fare questo sottopasso viario con marcia a pieda a fianco con una lunghezza di oltre 400 metri voglio vedere se questa è la soluzione gradita dai braidesi in particolare di quelli dell'oltre ferrovia quindi questo volevo dire che l'amministrazione i sottoscritti nella sua modestia ha provato ad andare a mano a questo che al momento è la situazione sta in questi termini l'altra questione la benedetta scuola cinque anni di discussioni a Roma a sistemi urbani per tentare di acquisire quell'area ogni volta sindaco mi sia testimone ogni volta che si arrivava poi superata la disponibilità di dire ma come si si la vendiamo altro che se la vendiamo un passo dopo un minuto dopo dicevano beh facciamo fare una valutazione da un ente terzo che ci dica qual è il valore ma di che stiamo parlando? stiamo parlando di un'area che adesso non acquisita iniziata diciamo che c'è un compromesso di vendita una superficie di 12.000 metri abbondanti di cui 5.200 edificabili con un indice di cubatura 3 a 1 qui ci sono fiori i tecnici facciano loro il calcolo dell'edificato che potrebbe essere edificato su quel terreno facciano loro e facciano anche loro il conto nella maniera con la quale si calcola l'incidenza del valore dell'area rispetto all'edificato possibile e questo è l'altro aspetto legato strettamente a questo termorestando a questo ho voluto precisarlo fino in fondo e queste cose che dico non sono parole mie invito tutti ad andarsi a prendere la scheda d'area che c'è sul piano regolatore e lega esattamente la conferma di queste cose che ho detto c'è ancora un aspetto sul quale da tempo si batte e ribatte la questione del traffico automobilistico che verrebbe ad aumentare in modo smisurato qualcuno anche ampliando quasi raddoppiando le stime che ha fatto la società di Milano che ha fatto quello studio però c'è la domanda da porsi che nessuno l'ha affrontata c'è qualche auto in più per portare questi ragazzi a scuola la società dice di sì la domanda che pongo io è questa però se in quel edificato possibile ci sono questi 15.000 metri cubi edificabili e se di questi 65% è edificabile in alloggi c'è 35% che è fatto a servizi a commercio negozi domanda facciamone fare un altro studio o chi verrà dopo dopo da questa amministrazione che dica anche lì qual è l'incidenza se si dice che fare una scuola aumenta del 10% il traffico automobilistico ci si dica anche qual è l'incidenza di questi alloggi perché la risposta è ma l'alloggio escono la mattina entrano la sera non c'è traffico 35% però sono servizi sono uffici sono negozi che cosa vuol dire questa la viabilità io la lascio lì l'ho voluto fare a questo intervento sperando di portare anche qualche elemento di chiarezza in più ringrazio tutti di questa compagnia che ho trovato in questi 10 anni ho trovato oltre che dei colleghi anche delle amicizie così forziamolo un po' amicizia ma una stima un rispetto da parte di tanti che conserverò nel tempo e quando ci troveremo per strada dopo sicuramente li vorrò salutare come degli amici grazie grazie consigliere Ferrero consigliere Somaglia prego sarò veramente molto breve mi ero riproposto di non intervenire più però due considerazioni sull'ultimo intervento le devo fare e magari sarà anche per me l'ultimo intervento in questo consiglio allora siccome sono stato io a citare per l'ennesima volta l'interramento dei binari e per la prima volta dopo cinque anni questa sera sentiamo che e cito testualmente abbiamo sbattuto la testa probabilmente anche questa amministrazione si è resa conto che questa è un'opera praticamente infinanziabile per l'importo estremamente elevato per una città come questa e qua non voglio dire che non sia la soluzione ideale se potesse essere sarei il primo a votarla in questo consiglio comunale però finalmente c'è questa presa d'atto l'altra cosa che volevo sottolineare e anche qui me lo sono appuntato perché il consigliere Ferrero è sempre molto preciso cinque anni fa sono iniziate le trattative con la società delle ferrovie noi di tutto ciò siamo venuti a conoscenza a se non ricordo male a giugno del 2018 terza cosa e poi mi taccio anche poc'anzi ho ricordato quale potrebbe essere l'alternativa di quel sito non quella di alloggi ma nel caso in cui possa essere acquisito dalla società oggi proprietaria aree verdi e parcheggio che andrebbe a risolvere l'annoso problema dei parcheggi nel nostro centro cittadino come promesso telegrafico certo poi c'è la consigliere la mangiù che si è prenotato allora c'è solo una piccola particolarità che per poter fare questa cosa che lei dice occorre fare una variante certo no si fanno si fanno le varianti ma le varianti che sono conseguenze di accordi di programma siglati assai difficili conto è fare una variante su un terreno eccetera ma varianti su accordi di programma siglati che anzi che fanno parte di una variante del 2007 che inserivano dentro questo elemento assai difficilmente credo possano essere tolte con uno stringiamoci una mano e aprono una contenzioso veramente credo molto molto difficile da risolvere se sia ancora molto telegrafico soltanto perché questo era la cifra che noi pagavamo per il moicentro e l'area del non centro è appena stata approvata una variante della variante nell'ultimo o penultimo consiglio comunale quindi anche questa potrebbe essere impugnata o può non andare a buon fine l'accordo poteva essere anziché la costruzione di una scuola la costruzione di un parcheggio mi pare che non ci sia grossa differenza comunque va bene così consigliere maggiù prego grazie somagna grazie presidente oggi il 23 aprile il 22 aprile 2015 abbiamo introdotto la fraternità non è stato comunale quindi spero di non chiudere questi anni con una bella litigata invece assolutamente richiamo che i valori di fraternità e anche di scontro politico nel rispetto delle diverse visioni politiche io farò un brevissimo intervento su quello che ho sentito insomma dal assessore Fogliato e anche da quello che ho sentito da tutti gli interventi dopo centrando sull'ambiente e sul lavoro allora sull'ambiente assolutamente penso che la sostenibilità ambientale deve diventare la premessa per qualunque tipo di investimento non si può più continuare non si può pensare all'apertura di nuovi negozi piuttosto che investimenti a scapito dell'ambiente alla lunga i costi benefici sono troveremo maggiori costi piuttosto che benefici e sullo stesso motivo per cui penso che a Bra non manchino parcheggi io penso che non manchino parcheggi anzi c'è un importante cambiamento culturale che bisogna fare perché i parcheggi ce ne sono tantissimi ma il problema è che li usano persone che non hanno bisogno di usarli ci sono persone che vivono a 300 metri di distanza ma piuttosto che fare una passeggiata usano il parcheggio occupando per persone che invece arrivano lontano quindi come diceva prima Maria se c'è una campagna da fare come quella che diceva sui rifiuti potrebbe essere fatta molto sull'utilizzo dei parcheggi di lasciare macchine a casa e questo è un cambiamento culturale che si può fare solo se non si aumentano i parcheggi perché se si aumentano i parcheggi si sta facendo un'operazione incoerente o si aumentano i parcheggi perché c'è bisogno oppure c'è un importante cambiamento culturale che bisogna farlo ma bisogna farlo insomma coinvolgendo i cittadini una cosa che insomma devo dire sull'amministrazione comunale è mancata molto è quella sulle piste ciclabili ancora ad oggi passeggiare insomma camminare in città e andare in bicicletta piuttosto che con altri strumenti è molto difficile per cui c'è stato un cambiamento in questi ultimi anni ma non abbastanza da come si sperava anni fa e poi sul mondo del lavoro io penso che io ieri ho visto un dato molto interessante questo è un oggetto che visto davanti a dietro è rettangolare da questa parte lo si vede protondo e mi penso i dati che sono usciti ieri su Targato Cugno che sono i dati del Sole 24 Ore che però sono stati riportati in maniera incompleta io quando li ho visti ho pensato caspita avrà in una posizione veramente buonissima perché è al quarantesimo posto e il Sole 24 Ore ha suddiviso ha fatto una ricerca a livello nazionale e ha suddiviso la Granda in due mezzi quindi 109 comuni che sono sotto la soglia della media nazionale che è di 61% e 138 comuni che sono al di sopra in maniera anche molto al di sopra della media nazionale 138 comuni tra i 138 comuni c'è anche la nostra città naturalmente il primo comune in assoluto nella Granda è Rodino sull'occupazione lavorativa il secondo comune è Lagnasco poi c'è Vinadio sono tutti comuni piccolissimi è chiaro che se si vuole fare un confronto con i comuni si prende i comuni della stessa dimensione e quindi c'è poi confronto con le sette sorelle e addirittura neanche Alba è fra le top 10 nonostante abbia insomma un mondo un'occupazione lavorativa legata insomma alla Ferrero e altre aziende importanti che richiamano insomma che hanno tantissimi dipendenti ma nella classifica il comune di Cunio è al 31esimo posto il nostro comune è al 40esimo naturalmente in questi dati non c'è ancora non c'è ancora quello che è successo negli ultimi anni perché i dati si riprescono al 2018 una ricerca del 2018 con i dati del 2017 quindi tutto quello che abbiamo visto dopo naturalmente non rientra in questa ricerca il nostro comune è al 40esimo posto ma tra il 31esimo posto dove si trova Cunio e Bra cambiano dello 0,7% e Bra è prima di Mondovì prima di Fossano nonostante abbia delle imprese importanti piuttosto che Savigliano anche esso con imprese importantissime quindi naturalmente il suo mondo del lavoro la posizione di Bra è al di sopra di grande lunga sopra insomma alla media nazionale però effettivamente sul mondo del lavoro c'è molto da fare io la prima volta che il consigliere Marengo aveva presentato quella proposta per incentivare la creazione dell'occupazione lavorativa dove appunto si prevedono di fare dei tirocini di accompagnamento con l'obiettivo insomma delle assunzioni in un primo momento mi ricordo che non approvai la cosa perché mi sembrava molto molto debole come proposta gli anni successivi insomma ho studiato quello che si è fatto in diverse aree non solo italiane ma a livello internazionale naturalmente il comune non può creare lavoro ma può assolutamente incentivare sia l'apertura sia la tassazione sia anche nell'accompagnamento sinergico tra il privato quindi secondo me una proposta simile si è fatta bene nella prossima registratura non so chi ci sarà questa potrebbe essere studiata bene secondo me potrebbe portare beneficio al territorio se è fatta davvero insieme all'amministrazione che con un accompagnamento importante e fatto insomma assieme alle imprese del nostro territorio possono davvero creare creare lavoro grazie grazie consigliere Tripodi prego grazie grazie presidente ma io ho ascoltato gli interventi di chi mi ha preceduto rimango sorpreso innanzitutto per alcune questioni la prima quella riguardante l'interramento della stazione sono seriamente sorpreso l'interramento della stazione ottimo la 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 storia in maniera storia molto 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 dettagliata dei fatti fatta dal consiglio al ferrero che parte dal 2005 ma fino al 2007 poi al 2012 ad oggi ma non ho ben capito una cosa questo punto dell'interramento della ferrovia era un punto all'interno del programma amministrativo di questa amministrazione e sto dicendo un qualcosa di sbagliato o di errato prego qualcuno che di intervenire subito dopo per spiegarmi se ho detto qualcosa di sbagliato ma tutte le altre le proposte alternative che lei ha indicato quest'oggi ultimo consiglio comunale ma dove sono state presentate da chi quale consigliere in quale commissione si è venuto e si è proposto si è detto semplicemente di valutare nulla quindi per quanto ci riguarda se all'inizio del mio intervento e dei ringraziamenti iniziali avevo ringraziato il presidente conterno per la sua trasparenza per la sua veramente capacità nel far sì che tutte le forze politiche avessero il loro peso in maniera bilanciato allora le dico a lei delegato di queste questioni comunali di scarsa trasparenza scarsa trasparenza nei confronti di tutti noi consiglieri facenti parte di questo consiglio e facenti parte di quelle che sono le commissioni ad hoc per presentare quello che lei sta dicendo che ha valutato che ha fatto che ha detto e che ha sinceramente noi non ne sappiamo nulla e chiedo ai consiglieri di maggioranza se sono a conoscenza di tutte queste verifiche e valutazioni da parte dell'amministrazione in tal senso l'idea è una l'interramento è ancora un obiettivo sì o no sì o no si può fare o non si può fare abbiamo i fondi per poterlo fare o no noi diciamo di no voi dite di sì ma nel frattempo all'oscuro di tutti valutate altre cose non è un bel atteggiamento e mi dispiace consiglio ferrero per quanto riguarda la scuola urlai nella scorsa nella scorsa riunione di consiglio comunale chiedendo in maniera determinata l'amministrazione di non impegnare il nostro comune in una questione così profondamente profondamente importante per la nostra città alla conclusione del suo mandato perché se per tanti atti quando dicevo prima fortemente diciamo meno importanti questa amministrazione ha fatto ha messo in moto dei procedimenti partecipativi per la scelta di cosa dovevamo fare della colonia di lei gueglia e e per una questione così importante come l'inserimento della scuola nella zona più trafficata della nostra città non si è interessato nessuno nessuno ha dato l'opportunità di far partecipare anche minimamente un consigliere anche visto e considerato che ci ritroviamo alla conclusione della vostra amministratura è paradossale è paradossale che noi come gruppo come lista civica avremo sicuramente una proposta diversa su quel tratto e su quell'area non sta a me indicarlo ma poi al nostro candidato sindaco non in questa occasione o se vorrà anche in questa occasione ma però come ha esposto i fatti io mi ritengo offeso nel mio ruolo da consigliere e controllore dell'attività politico amministrativa di questa città io posso controllare valutare io posso valutare controllare contribuire se alcune cose vengono dette esposte chiarite spiegate e presentate altrimenti noi qua siamo veramente solo chiamati a fare del teatro politico perché sa noi quando diciamo che vogliamo contribuire effettivamente in quello che è la nostra città e contribuire per dare un contributo forte in quello che potrebbe essere anche dare una nostra opinione non lo diciamo per scherzo non lo diciamo tanto per dirlo perché ci fa piacere lo diciamo bla 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 lo diciamo perché siamo più apposta perché se mettiamo da parte tanti nostri impegni lavorativi mettiamo da parte le nostre famiglie mettiamo da parte tante cose facciamo questo che è un ruolo veramente di un ruolo civico della nostra città dove è paradossale tutto ciò quindi mi dispiace aver ascoltato queste parole all'ultimo consiglio comunale non volevo minimamente concludere in questo modo i dieci anni di consigliatura ma purtroppo purtroppo è così grazie al consigliere Tribudi consigliere Ferrero prego presumo per fatto personale su cui non c'è dibattito certo 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 semplicemente per due due chiarimenti uno dell'ultima affermazione fatta dal consigliere che mi ha preceduto quando dice che apprende apprende oggi che ci sia stata una proposta di che ho citato come presentata da un'associazione privata bene questa proposta ricordo esattamente no no un'associazione privata e poi fatta propria in qualche tempo dopo anche da altri questa proposta è stata presentata il 25 26 settembre no qualche mese prima 2009 al bar chiosco della stazione resa pubblica no 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 un momento un momento per cortesia lasciare per cortesia no nessun scusate non parla più non parla più nessuno per cortesia riavvolgiamo il nastro finisce di parlare il consiglio finisce di parlare il consigliere anche perché se non si sta a sentire poi dopo le risposte sono sbagliate questa idea è stata resa pubblica non sentata all'amministrazione in allora esattamente al bar chiosco della stazione in piena campagna elettorale 2009 è stata presentata in quel posto riportata da tutti i giornali quindi a conoscenza di tutti non è stata mai formalizzata che io sappia a protocollo di questa amministrazione questa è la situazione del mio riferimento a questa proposta dell'associazione privata l'altra questione invece sollevata che diceva ma come avete parlato cinque anni per quell'otto di terreno bene preciso che questa discussione era fatta sempre assieme alla partita del movicentro quando a Roma si parlava del movicentro con tutti i problemi che c'erano e che tutti sono conoscete perché è stato detto non so quante volte qui la stessa sistema urbani diceva ma perché non tutto perché non tutto ti ricordi sindaco però subito dopo se non tutto ma ha quel valore che loro intendevano e dire che mai è nata da nessuna parte sta roba nell'accordo attuale che c'è con l'RFI attuale e che è stata frutto di una variante urbanistica nell'ultimo consiglio parla espressamente che quell'area veniva ceduta a condizione che fosse destinata a uso scolastico e che questa che questa soluzione e quel corrispettivo erano sono validi fino a dicembre dell'anno prossimo che qualora questo non si avverasse decade tutto e la situazione diventa quella che c'era prima grazie grazie consigliere Ferrero intervengo io brevemente perché con buona pace di chi si intende molto dei binari e così facciamo anche una battuta per svelenire un po' questo clima di ultimi giorni di Pompei temo che siamo un po' usciti dai binari della discussione io ritorno al titolo e al contenuto della delibera che effettivamente recita così rendi conto della gestione finanziaria esercizio 2018 approvazione ovviamente ho sentito con grande rispetto e con grande attenzione tutti gli interventi che si sono susseguiti mi permetto però di ricordare che il bilancio e la relazione che accompagna questa delibera è una relazione che si estende su 360 gradi su tutta quella che è l'attività dell'amministrazione comunale ovviamente si parla del rendiconto del 2018 quindi voci importanti sono sicuramente il lavoro voci importanti sono l'artigianato il commercio l'urbanistica l'interramento il sovrapasso il sottopasso il passo di lato il passo all'indietro tutto tutto quello che il doppio passo tutto quello che possiamo dire però io inviterei a ritornare un po' sul contenuto molto preciso anche perché l'assessore Fogliato nei suoi 30 minuti che ha avuto a disposizione è riuscito a spaziare veramente su tutte quelle che sono le voci principali su cui noi consiglieri siamo chiamati a dare il nostro voto per quanto mi riguarda non è la prima volta che la giunta e l'assessore al bilancio in particolare sono riusciti in un'operazione certamente non scontata non facile e neanche automatica di mettere insieme quelle che sono le risorse reali a disposizione dell'ente comune con quelle che sono le altrettanto reali e giustificate richieste dei cittadini va da sé che operando su 360 gradi ci sia sempre qualche grado dell'angolo giro che potrebbe essere riempito di contenuti forse più adeguati più consoni più specifici certamente nessuno è perfetto neanche l'amministrazione di Brallo è che sarebbe un'eccezione ma in questo caso sarebbe veramente un'eccezione molto strana con le risorse a disposizione è ovvio che si fanno delle scelte perché il bilancio è fatto di scelte se uno avesse delle risorse infinite e delle potenzialità infinite non si potrebbero nemmeno votare i bilanci perché i bilanci stessi sarebbero infiniti a un certo punto le voci devono cessare le pagine devono chiudersi i soldi a disposizione devono essere contati fino all'ultimo centesimo si devono fare delle scelte bene all'interno di questa potenzialità che per forza di cose è limitata io noi riteniamo che questo come i bilanci anche delle passate gestioni degli anni precedenti siano bilanci innanzitutto credibili seri razionali che non vendono fumo che non promettono l'impossibile ma che hanno questa caratteristica che io stimo e ritengo molto importante che noi riteniamo importante quella di non essere mai caduti in contraddizione in questi lunghi cinque anni a cui si aggiungono anche gli altri precedenti cinque anni per fare dieci mai essere caduti in contraddizione tra l'orizzonte verso cui ci si muoveva e annualmente il passo leggero breve ma determinato per arrivare nell'arco dei dieci anni a completare quelli che erano gli intendimenti le idee i valori di fondo che guidano questa amministrazione fin dal 2009 e quando parlo di una visione non contraddittoria mi sto riferendo proprio a delle linee guida fondamentali che l'assessore Fogliato in questi lunghi dieci anni ha seguito senza mai contraddire quella che era la politica fiscale la politica tributaria la politica delle entrate extratributarie così come la politica della spesa un dato su tutti nessuna nessun aumento dei servizi a domanda individuale è stato fatto dall'amministrazione a fronte come abbiamo sentito bene di 4 milioni di euro di mancati trasferimenti da parte dello Stato cui si aggiungono altri più o meno 4 milioni di mancati mutui per un totale di 8 milioni di euro è molto facile immaginare cosa sarebbe stato possibile realizzare con una disponibilità finanziaria di 8 milioni di euro in più probabilmente parleremo di un'altra saremmo a parlare qui di altri argomenti questa sera le scelte sarebbero state fatte in un altro modo certi contenuti sarebbero stati individuati certe caselle sarebbero state riempite con dei contenuti diversi e pertanto io non scendo più ovviamente dei particolari di nessuno degli argomenti che sono stati toccati pur riconoscendo l'importanza e anche la valenza politica e perché no elettorale non ci nascondiamo dietro un dito non dirò più neanch'io che forse questo è l'ultimo intervento che farò in consiglio comunale perché probabilmente porta anche male o comunque non dipende certamente da me da noi qui presenti decidere e se dipendesse da noi tutti quelli che si ricandidano direbbero certamente io voglio esserci magari con ruoli anche molto importanti ma al di là di tutto ho una sufficiente esperienza anch'io di amministrazione locale per non scandalizzarmi se questi argomenti che sono argomenti molto sentiti dalla popolazione diventano oggetto legittimamente di attriti di questioni anche di polemiche in campagna elettorale questo è come è stato detto da qualcuno il sale appunto della democrazia certamente non ci tiriamo indietro da questo confronto ribadisco che a fronte di dati numeri certi di quelle che sono le disponibilità finanziarie e a fronte di progetti che sono stati in questi anni illustrati chiariti manifestati in decine e centinaia di incontri con le associazioni i quartieri i gruppi di cittadini singoli associati mi ritengo soddisfatto di come questo bilancio è stato compilato e mi ritengo anche soddisfatto perché ha mantenuto come ho detto prima una logica interna tra la fattibilità e le risorse pertanto il voto del gruppo a cui appartengo ma non voglio fare la dichiarazione di voto perché poi ci penserà la presidente della commissione finanze e tributi a nome della maggioranza comunque mi pare molto evidente delle cose che ho detto che il voto non potrà che essere convintamente convintamente favorevole consigliere Ambrogio prego prima di ah no c'era è vero che c'era l'assessore Fogliato che chiedo scusa a entrambi prego assessore grazie sono una per quattro riflessioni credo riflettevo stasera di essere stato molto fortunato in vita mia su tanti aspetti uno anche sotto l'aspetto di formazione politica amministrativa perché data purtroppo la mia età ho ancora vissuto il periodo in cui c'era una formazione alla politica vi erano dei corsi che ti preparavano all'impegno amministrativo io ho avuto la fortuna di farlo e un aspetto mi è venuto in mente questa sera di tutti quegli insegnamenti un aspetto che poi è finito in uno slogan più moderno adesso si usa dire agire localmente e pensare globalmente adesso allora si ragionava invece soprattutto per quanto riguarda la città certamente agire nei vari situazioni della tua città agire nelle frazioni nel centro eccetera ma avere una visione globale e un altro e visto che era bello anche portare dei fatti concreti citavano l'esempio di un grande sindaco che è un mistero l'ho citato più volte nelle conclusioni dei miei resoconti Giorgio Lapira e lui aveva tre caratteristiche ne aveva diverse ma sintetizzava il suo agire con tre parole umiltà verità confronto e pensando a queste tre parole mi permetto solo di aggiungere a tre aspetti alcune cose che sono state frutto di discussioni stasera e che già il sindaco e la mia collega Sara Cavero hanno detto ha detto bene il primo è l'articolo che è venuto fuori sulla posizione del comune di Bra sul tema di occupazione e mi è piaciuto il consigliere Amasua credo che fosse quello che ha approfondito quello che mi è sembrato di capire il significato di quell'articolo se mi permette il consigliere aggiungerei ancora un aspetto soprattutto per quanto riguarda il raffronto con le sette sorelle i dati sono presi nel fare questa statistica logicamente i redditi dichiarati nel 2018 relativi al 2017 i redditi di quelli che hanno dichiarato nella propria dichiarazione dei redditi di aver svolto un lavoro dipendente anche se limitato nel tempo ma in quell'anno lì lavoro dipendente logicamente oltre che a livello di produttivo eccetera però fermiamoci al lavoro dipendente perché questo era l'oggetto logicamente nelle città e parlo delle sette sorelle dove vi sono realtà economiche che si avvalgono anche in maniera molto forte di stagionalità questo fa comparire la presenza di reddito del lavoro dipendente e fa alzare la posizione nella classifica questo non vuol dire che altre città non sarebbero state prima di noi sicuramente ma sicuramente però nel momento in cui analizzo una graduatoria devo anche vedere tutti i fattori leggere l'articolo completo per vedere bene la graduatoria da cosa determinata credo che di lavoro scusate il gioco di parole nella nostra città ce ne sia ancora da fare in questo settore sono il primo e l'ho detto nella mia relazione credo che la posizione che abbiamo sia una posizione interessante che logicamente però ci spinge a migliorare sempre rimanendo in tema di sviluppo economico e lavoro ha già detto bene non voglio ripetere il sindaco quello che è l'impegno nella dialettica con le realtà economiche sotto l'aspetto urbanistico eccetera credo che però in questi anni nel suo piccolo l'ente locale con tutti i limiti ha anche investito in proprio anche investito in proprio per dare lavoro e vorrei citare borse lavoro cantieri lavoro anche per diversamente abili progetti di pubblica utilità due volte siamo arrivati primi nella progettazione investimenti pubblici qui nel limite della legge hanno lavorato molte ditte locali bella la proposta lo riprendeva il consigliere a me giù noi fondo buona occupazione ne abbiamo discorso nel tavolo attività produttive ma oltre discorso due anni fa in bilancio previsionale abbiamo stanziato anche dei soldi dicendolo chiaramente al tavolo attività produttive come avvenuto a Biella dove non ho vergogna abbiamo copiato però abbiamo detto chiaramente alla associazione di categoria che quello deve essere un pezzo noi mettiamo i soldi le fondazioni bancarie le associazioni di categoria mettono altre per far sì delle regole per buona occupazione poi può essere rivolta ai giovani può essere ai diplomati ai laureati quello è una scelta comune però noi li abbiamo stanziati quei soldi non è stata solo teoria abbiamo e siamo stati a volte mi vergogno a volte parlare con il dirigente che a volte mi tira le orecchie perché ci cita che siamo fra le città dove abbiamo una più ampia gamma di alipote soprattutto per quanto riguarda l'Imu bene vi sono delle alipote che anche prima ancora nella precedente legislatura anche grazie anche alla porta suggerimento di consiglieri che erano in minoranza ci hanno portato a far propria l'idea di diminuire l'alipote Imo da quanto riguarda capannoni produttivi o laboratori artigianali eccetera abbiamo investito in proprio nel capitale sociale dell'ITS agroalimentare abbiamo messo 10.000 euro quelli che escono i giovani che escono dall'ITS agroalimentare come nell'altro ITS turistico e nel testimone il mio collega Borrelli che siedono quel consiglio di amministrazione escono e hanno una percentuale di trovare lavoro che sfiora quasi il 100% noi ci avevamo messo soldi ci avevamo messo energie per quanto riguarda essere presenti ma un dovere i nostri uffici ci hanno messo un grosso lavoro dentro perché comunque occorre creare uno statuto occorre creare regolamento eccetera in ultimo e lo dico in ordine temporale è stato citato c'è stato io lavoro ma abbiamo avuto quest'anno l'autorizzazione perché io lavoro prima era centrato su Torino c'è voluto Passo prima veniva il capoluogo di provincia Savigliano in parte dopodiché siamo riusciti a ottenerlo anche noi come Alba eccetera anche lì abbiamo investito abbiamo investito dei soldi per far sì che le 30 erotte posizioni dichiarate dal resoconto che mi hanno portato hanno trovato quasi tutti copertura perciò ho dato la possibilità a altre tante persone che sono venute lì il 21 febbraio di essere richiamate e di avere un lavoro serio perciò fermo restando quello che ha detto prima e che faccio mio perché sono stato presente col sindaco quotidianamente insieme altri miei colleghi nel rapporto con la parte datoriale e la parte sindacale però era giusto che il comune ci mettesse dei soldi certamente non è sufficiente certamente perché se no non saremmo a quella posizione saremmo in tutta altra posizione certamente del lavoro ce n'è tantissimo ancora da fare ma questi sono soldi dei cittadini del nostro bilancio così pure è vero tutto quello che ha detto la collega Sacra vero ma noi l'anno scorso abbiamo indito del 10% ai privati è vero che c'è stato lo spostamento sulle attività produttive ma abbiamo stanziato un fondo di 80.000 euro che va in pagamento nel mese di maggio che serva a calmirare di oltre il 50% l'aumento avuto per quanto riguarda la Tari e attenzione quello spostamento noi l'abbiamo fatto lo scorso anno le altre città correttamente non le sto giudicando correttamente l'hanno fatto nel 2013 quando è cambiata la normativa da Tari a Tarso eccetera quando diciamo che scenderemo non solo quest'anno circa il 5% ma anche in futuro prossimo anno del 5% non è una proposta ma è una realtà con i conti attuali dove è vero ha creato un impegno da parte dei nostri concittadini comporta anche un'educazione comporta tanti aspetti ma conti alla mano ha portato a presumere una diminuzione dei costi sull'indifferenziata attorno ai 200 mila euro tra i 200 e i 250 mila euro e questo porta ad avere se il trend continuerà in questo modo a dire che non è una chimera il dire che ci sarà altrettanto questa riduzione ma intanto si lavora per altri aspetti il lavoro per aumentare la base imponibile e sta aumentando anche in base al fatto degli accertamenti che sono stati fatti il lavoro fatto dall'Eco Centro ma vorrei tornare da dove sono da dove sono partito l'ho detto in conclusione del mio intervento ma forse non sono stato molto chiaro e vi chiedo scusa quando ho messo volutamente la slide del raffronto con il programma presentato dal sindaco nel luglio del 2014 alla fine perché volevo prima che parlassero i numeri per capire se i numeri si sposavano con gli aspetti declinati dopo o se andavano in contrasto certamente istituzionalmente e formalmente il bilancio può essere approvato o respinto dal Consiglio Comunale noi siamo chiamati poi io non ho diritto di voto siete chiamati a fare questo e del vostro legittimo fare le analisi anche vivace eccetera stasera io credo che non solo il Consiglio Comunale ma saranno anche i nostri concittadini che dovranno valutare il bilancio questa sera io credo non sia luogo di parlare di proposte che faranno nella campagna elettorale altri luoghi altri luoghi ci saranno i confronti eccetera di proposte io credo che in questo momento sia importante che vengano declinati e annunciati i numeri di quello che si è fatto con un'analisi istituzionale formale con un voto importante alla massima Assemblea che è il Consiglio Comunale con un'analisi altrettanto importante che saranno i nostri concittadini grazie all'assessore Fogliato c'è la consigliere il consigliere la consigliere non so Maria Lambrogio prego intanto ringrazio le precisazioni che ha fatto l'assessore in conclusione in questo ultimo intervento perché ha riportato alcuni concetti che erano andati un po' deragliando durante la discussione ma soprattutto ha puntualizzato le cose che sono state fatte con dovizia di numeri perché in effetti un bilancio è fatto di numeri e quindi a questo ci dobbiamo tenere e voglio ancora rubarvi una battuta che aveva fatto in passato in precedenti presentazioni di bilanci che era questa che mi è sempre rimasta in mente che questo bilancio che abbiamo discorso che andremo ad approvare non è sicuramente il miglior bilancio possibile che il comune avrebbe voluto esporre nel senso che dobbiamo sempre fare riferimento alle risorse che abbiamo e quindi se in un ipotetico libro dei sogni potessimo avere un bilancio possibile avremmo un bilancio diverso con molti più sostanze per i nostri concittadini ma è il miglior bilancio possibile dato con i numeri che ci troviamo a calcolare tra le entrate tra l'uscita e tra i servizi quindi questa battuta me l'erò anche scritta esatto non ho utilizzato il termine esatto che era un bilancio ideale cioè un bilancio ideale sarebbe diverso ma questo è il miglior bilancio possibile che possiamo che andiamo a votare quindi da parte della maggioranza esprimo parere positivo per la votazione di questo bilancio e anch'io ringrazio tutti i colleghi di questi anni con cui abbiamo collaborato nelle varie commissioni finanze e tributi abbiamo lavorato molto è stata una grande una grande esperienza e basta certamente diventiamo nostalgici quindi va bene così grazie grazie al consigliere Ambrogio consigliere Marengo prego sì presidente per la dichiarazione di voto sarò brevissimo io ero proprio partito dall'analisi dei dati di questa sera nel mio intervento quindi spero di non essere andato fuori tema niente io resto della mia idea viva il confronto questo è il massimo consesso in cui si può esprimere il proprio parere io ritengo che il fatto di riunire la conferenza del capigruppo anche in maniera straordinaria all'ultimo minuto per avere notizie però riportate dall'amministratore delegato piuttosto che dalla parte sindacale sia una mera informazione il senso del mio intervento era proprio quello che all'inizio avevo avevo citato e cioè il fatto che un sindaco dovrebbe essere sempre al centro di queste vicende e quindi della discussione che si viene a creare ma non voglio più fare polemica è il mio ultimo intervento quindi voglio chiuderlo in maniera soft diciamo così chi mi ha preceduto ripeto non ho fatto io accenni alla scuola questa sera però ecco ha detto che si lavora questo progetto della scuola dal 2015 ha ben detto bene il mio collega Massimo Somaglia prima quindi quando diceva che il consiglio comunale o parte di esso è stato avvertito solo nella primavera del 2018 quello che noi abbiamo detto questa sera sostanzialmente è quello che stiamo dicendo da mesi se non da anni sulle tematiche del lavoro sulle tematiche in questo caso della scuola dell'interramento dei binari trovo un po' capzioso il fatto che si possa pensare che si dicano queste cose sempre solo per materia elettorale se andassimo a rivedere le nostre dichiarazioni due anni fa tre anni fa o quattro anni fa sarebbero esattamente le stesse che abbiamo riportato questa sera e negli anni scorsi devo dire devo dire che l'intervento dell'assessore Fogliato io in realtà lo condivido abbiamo visto anche nel tavolo delle attività produttive un input ma che e io questo contesto non è stato secondo me sufficiente a dare quell'abbrivio necessario a far fare un cambiamento di rotta a una certa politica io credo e l'ho sempre detto in tutte le occasioni che alcuni istituti come la borsa lavoro o i cantieri lavoro siano in realtà sostanzialmente dei palliativi il senso del mio intervento invece era diverso e cioè un'amministrazione deve poter contare su aziende che possano essere attratte dal nostro territorio e quindi vengano ad aprire qui e a portare occupazione ma ripeto lo dico in maniera molto serena molto tranquilla non voglio più fare polemica nonostante questo però il senso del mio discorso è che non posso condividere quanto questa sera ci è stato esposto perché in realtà noi è vero abbiamo esaminato il 2018 ma in realtà è l'ultimo passo di un percorso come è stato ricordato partito dieci anni fa abbiamo idee diverse abbiamo forse una mentalità diversa forse abbiamo delle priorità diverse ma questo fa parte della natura umana e la natura umana anche in questo consiglio comunale si manifesta nella diversità delle opinioni detto questo non posso che manifestare la mia negatività per le ragioni che ho appena esposto e che ho esposto questa sera e pertanto il mio voto sarà negativo grazie grazie a lei consigliere ma giù prego grazie presidente anche io farò dichiarazione di voto come come da Brassi insomma in questi ultimi tre anni da quando non faccio parte più della maggioranza e da quando non ho l'opportunità insomma di incidere sul bilancio naturalmente molte cose sono condivisibili alcune cose no e quindi in questi ultimi anni mi sono spenuto e mi asserrò anche questa volta grazie allora la maggioranza si è espressa le minoranze sono espressi forse c'è ancora il gruppo Tripodi non è obbligatorio ovviamente va bene allora si prende atto quindi che la discussione è finita qui giusto? allora si pone in votazione la terza delibra questa consigliatura sempre che non capiti qualche cosa di particolare che teniamo conto che siamo ancora tutti in carica fino alle elezioni quindi non c'è ancora la libera uscita allora Elena è definitivamente assente giusto? che si è dovuto assentare quindi siamo in 15 esatto mettiamo in votazione votazione chiusa delibera approvata con 10 voti favorevoli 4 contrari e un astenuto grazie e arrivederci qualunque dimensione noi saremo grazie 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 Grazie.